Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è il primo giorno eh dell'Open Go Week e apriamo con questo webinar partecipazione, intelligenza collettiva e valore pubblico. Oggi diciamo il webinar eh ci offre una riflessione eh sui bisogni e le strategie per rendere eh la partecipazione pubblica una leva sia per rafforzare la fiducia dei cittadini e dei governi che per migliorare la qualità ed efficacia delle politiche pubbliche. Eh il webinar è anche un'occasione per presentare l'attività di livello nazionale del Lab eh partecipazione pubblica. Io eh vi rubo solo qualche minuto, sono Irene Massotti del Formez, vedete eh in video il programma delle attività odierne, vi do soltanto alcune informazioni di servizio, utilizziamo la chat come state facendo per i vostri saluti, per problemi tecnici, per quello che eh riguarda diciamo gli aspetti più tecnici del webinar, mentre per mh osservazioni o domande ai nostri relatori potete utilizzare il box domande e risposte. Eh non voglio sottrarre altro tempo ai nostri relatori, quindi passerei la parola a Sabina Bellotti, punto di contatto nazionale della partnership mondiale per il governo aperto eh dipartimento della funzione pubblica. Sabina, a te la parola e buon webinar. Grazie, grazie mille Irene. Aspettiamo ancora qualche minuto perché vedo che stanno entrando le persone e approfitto nel frattempo per mettere diciamo per mettere in là online le mie le mie slide. Ok. Ok. Sì, è un è un evento importante, particolare questo di oggi perché ci connette a livello a livello mondiale con eh con 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 altri settantacinque paesi che come noi eh si occupano in questa settimana di maggio è una diventata una tradizione ormai di parlare di governo aperto, di aprire diciamo le nostre stanze ancora di più che sono normalmente sempre aperte ma aprirle ancora di più a ad altri pubblici al di fuori delle nostre community allargate di organizzazioni della società civile e PA che partecipano alle iniziative. Eh penso di poter dare avvio ai lavori fin tanto che le persone arrivano partendo da una brevissima presentazione di quello di cui parleremo oggi. Eh il tema è quello della partecipazione pubblica e soprattutto dal punto di vista di dei bisogni di partecipazione nel nostro paese e delle strategie che sono in atto così come anche quello della ehm attenzione focalizzazione alle attività e alle iniziative del nostro hub della partecipazione pubblica che è stato avviato in occasione della settimana dell'amministrazione aperta mondiale l'anno scorso quindi siamo tornati eh per raccontarvi quello che si sta facendo e quelle che sono le le sfide future. Eh per iniziare a dare degli elementi utili a chi non conosce diciamo da vicino il tema del governo aperto eh vi do brevemente alcune indicazioni relative a che cos'è l'open government partnership. È un'iniziativa multilaterale lanciata nel 2011 dagli Stati Uniti che eh mira a garantire impegni concreti da parte dei paesi aderenti come vedete in questo momento in questa fase siamo 76 paesi a livello mondiale. L'elemento importante da ricordare è che non sono soltanto paesi sviluppati come nel caso dell'organizzazione mondiale dell'Ocse ma si tratta anche di aree geografiche importanti del mondo che comprendono il sud del mondo quindi sia l'Africa che l'America Latina, l'America centrale. L'impegno che a tutti i paesi che partecipano alla partnership è richiesto è quello di realizzare piani nazionali d'azione che contengono impegni definiti in collaborazione con la società civile. Questo è l'elemento di fondo del governo aperto e con delle finalità che sono quelle che vedete indicate qui. Promuovere trasparenza, cultura dell'integrità, combattere la corruzione, promuovere queste iniziative attraverso forme di partecipazione pubblica appunto di condivisione eh fra eh definizione di politiche, definizione di servizi, valutazione degli esiti delle politiche pubbliche con la società civile organizzata ehm promuovere la governance digitale inclusiva e difendere i diritti legati allo spazio civico che sono fondamentali appunto per l'esercizio eh del diritto a partecipare alla definizione delle politiche pubbliche. Eh la nostra partnership nazionale in particolare ha recentemente a valle di una ridefinizione a livello mondiale della strategia di OGP definito una propria vision che potete leggere che quindi vi dà con chiarezza l'idea di quello che è eh l'obiettivo proprio quello di lavorare in modo paritario insieme alla società civile per rafforzarne l'ascolto e la fiducia dei cittadini e produrre valore pubblico. Oggi WIC che cos'è? È un'iniziativa mondiale come vi abbiamo detto, come vi ho già detto proprio per riportare l'attenzione ai livelli nazionali nei diversi paesi eh su quelle che sono i principi del governo aperto. Qui avete un dettaglio della fotografia attuale, sono previsti e lo potete consultare sul sito di OGP International eh nella settimana che apriamo oggi quattrocento oltre quattrocento eventi eh diffusi sulle diverse aree di lavoro che ehm incrociano quei quei principi, quelle azioni che vi ho descritto poco fa e vedete come la partecipazione pubblica sia ovviamente maggioritaria dal punto di vista dell'interesse. Ovviamente ci stanno anche moltissimi interventi, eventi che riguardano la totalità delle aree di lavoro del del governo pubblico e questa è la voce altro che vedete alla fine. Ehm io da questo punto di vista mi fermo e voglio scusate voglio uscire dalla presentazione e cominciare a dare avvio ai lavori ai lavori della della giornata. Abbiamo detto che iniziamo con una sessione di lavoro che parla di partecipazione pubblica in senso strategico e voglio dare la parola prima di tutti eh a un punto di vista particolare sulla partecipazione che è quello della partecipazione dei territori con difficoltà dal punto di vista delle diseguaglianze territoriali che sono ancora presenti nel nostro paese e ce lo indica in modo chiaro anche il nostro PNRR, il nostro piano nazionale, la nostra agenda nazionale di di ripresa eh e resilienza. E do la parola al al direttore della impresa sociale con i bambini Marco Imperiale che chiamo in video e lo invito a parlarci appunto di un esperienza che è quella di Caivano, dar voce ai bambini e alle bambine per ricostruire la fiducia dei cittadini. Ovviamente è Caivano e oltre, vero dottor Marco Imperiale? Prego la parola a lei. Buongiorno, buongiorno dottoressa Bellotti, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per avermi invitato in questo contesto, in questo contesto. È molto interessante su un tema che che ha una grandissima importanza, intanto consentitemi di dedicare un minuto del mio breve intervento a spiegare un po' a tutti che cos'è questo fondo nazionale per la poverta educativa minorile. Alcuni di voi lo sapranno, altri no, è un fondo eh istituito nel duemila e quindici grazie ad un accordo tra il governo italiano e le fondazioni di origine bancaria riunite in Acri, grazie a un meccanismo eh che funziona sulla base di un credito d'imposta, quindi lo Stato sostanzialmente il governo si è impegnato a riconoscere un credito d'imposta alle fondazioni che finanziano questo fondo che ad oggi vale circa ottocento milioni di euro grazie a questo meccanismo e la cui gestione è affidata, è stata affidata alla fondazione con il Sud, la quale a sua volta, che è una fondazione privata, e a sua volta ha istituito questa impresa sociale che è stata chiamata con i bambini che appunto gestisce questo fondo che ad oggi ha finanziato oltre settecento progetti in tutto il territorio nazionale e così entro anche in medias res come dire eh questi progetti, la maggior parte di questi progetti hanno eh diciamo un valore, attribuiscono un valore molto importante alla partecipazione dei giovani perché si fondano uno dei capisalti insomma di questa progettualità eh è quello proprio di mettere eh di immettere i giovani vulnerabili all'interno di un percorso eh percorso che viene eh coprogettato da essi stessi e che ha una durata eh importante questo è significativa perché sono dei percorsi che durano non meno di uno o due anni eh e che eh hanno l'obiettivo appunto di favorire l'inclusione culturale, sociale e spesso lavorativa soprattutto come si tratta di giovani prossimi alla maggior età o addirittura di giovani adulti quindi quella fascia immediatamente a cavallo del compimento del diciottesimo anno di età eh in cui appunto eh quindi eh come dire la partecipazione diventa un elemento eh decisivo eh non solo in sé in quanto valore diciamo politico ma anche per i fini dell'efficacia delle azioni di inclusione sociale cioè senza da convincimento e una forte motivazione personale quindi una partecipazione della persona eh al al raggiungimento di questi obiettivi questi obiettivi difficilmente possono essere raggiunti eh naturalmente quindi ehm come dire un tema particolarmente importante che viene particolarmente approfondito da dalle nostre attività è proprio quello della motivazione quindi del eh dei dei giovani che passa eh un po' attraverso il collegamento di queste attività a delle obiettivi concreti specifici che riguardano proprio la vita delle persone quindi la partecipazione appunto non è un valore a sé stante è un valore assoluto che che deve essere in qualche modo accolto dai giovani ma è uno strumento che i giovani hanno per perseguire i propri obiettivi questo è una parte importante del processo di motivazione eh e complementare con questo fondamentale anche il l'accompagnamento che i giovani dicevano cioè la presenza di figure di adulti o comunque di esperti di facilitatori che consentono insomma di agire concretamente poi questa partecipazione di convogliarla verso quegli obiettivi quindi diciamo che molti nostri progetti credo che se ne continuano a decine che hanno questo questi tipi di meccanismo questi tipi di meccanismi sperimentano questi tipi di azione e appunto eh alcuni riguardano territori fortemente disagiati prima di arrivare a questo però volevo aggiungere anche ehm da un punto di vista come dire teorico per aiutarci un po' ad avere un'idea generale un po' della situazione che eh sempre all'interno delle sperimentazioni eh sostenute dal da questo fondo nazionale noi abbiamo come dire quasi definito una scala del livello di coinvolgimento dei dei giovani alle attività progettuali dentro la quale diciamo il livello ehm diciamo più sarebbe a dire più basico ma già come dire impegnativo è quello dell'impegno del del volontariato eh che può ehm esplicarsi in diverse modalità naturalmente una delle più diffuse oggi è il cosiddetto service learning cioè quel tipo di attività nel quale i giovani si impegnano per la comunità quindi imparano facendo delle cose che tipicamente sono attività di volontariato a favore eh della comunità che possono riguardare i beni comuni piuttosto che l'assistenza a persone eh in difficoltà oppure sempre in questo ambito delle modalità molto diffuse delle pratiche molto diffuse oggi sono quelle dell'aiuto tra pari quindi il fatto che i giovani eh aiutino altri giovani eh aiutino altri giovani perché magari hanno delle competenze forti e e quindi questo eh tipicamente può avere spesso può avere un maggiore livello di efficacia rispetto all'aiuto con con figure esterni o con figure di adulti ecco quindi il primo livello è appunto quello del coinvolgimento in attività di di servizio e di volontariato eh a partire da queste poi si possono agire anche invece delle attività di coinvolgimento nella progettazione quindi nel momento in cui si progettano si pianificano le attività che devono eh che hanno come beneficiari i giovani eh i giovani vengono eh attraverso dei meccanismi eh comunque eh gestiti in maniera professionale ma abbastanza flessibili perché se troppo digiti possono poi alla fine non essere efficaci comunque eh i giovani vengono coinvolti nella progettazione quindi nella definizione proprio dei degli obiettivi stessi del lavoro che che si fa al loro beneficio e diciamo un terzo livello può essere quello addirittura della cosiddetta auto progettazione quella in cui quindi questo processo di progettazione è affidato in toto o quasi ai giovani stessi e un'esperienza di questa natura ad esempio la stiamo facendo a Milano in collaborazione con il comune di Milano dove abbiamo proprio pubblicato un bando che ehm eh procede in questa dimensione cioè quella di ehm sollecitare gruppi di giovani minorenni diciamo la fascia ovviamente riferimento è quella tra i quattordici e diciotto anni ovviamente accompagnati come dire tra virgolette attraverso il tutoring di associazioni del territorio però sono loro sollecitati a presentare proposti di valorizzazione di gestione di pezzi di territorio e quindi si mette a loro disposizione anche un budget degli strumenti per poter fare questa cosa ecco detto questo vado invece a nella parte finale del mio intervento dirò qualcosa di più specifico sulle aree disagiate perché effettivamente si fa riferimento a Gaivano perché proprio sulla scorta di una nostra esperienza ormai molto ehm datata a Gaivano di conostra riferendomi anche alla fondazione con il sud che è presente su quel territorio per i passiani a sostegno di alcune associazioni del territorio che fanno che lavorano proprio sull'educazione dei giovani e proprio sulla scorta di questa esperienza ma soprattutto sulla scorta degli eventi dello scorso anno che poi hanno fatto anche il governo a definire un decreto legge sulla scorta del quale appunto il comitato di indivizio del fondo nel quale il governo stesso è presente ha individuato proprio nelle aree disagiate l'obiettivo di una nuova azione nazionale molto importante che ha come sua caratteristica principua intanto il fatto di raccogliere intorno a un tavolo comune di lavoro le istituzioni pubbliche e le istituzioni private dei territori interessati quindi questo è un aspetto molto importante perché rimanda comunque in generale al tema della partecipazione del governo aperto quindi e tra l'altro lo accenno soltanto ma su questo poi dovremo anche ritornarci in altre occasioni naturalmente non si può non farlo attraverso non si può evitare insomma utilizzare gli strumenti digitali anche della digitalizzazione per esempio della mappatura georeferenziata di questi territori per ehm conoscerli approfonditamente nelle nelle dimensioni stratificate diciamo che sono fondamentali per ehm condividere insomma una visione di quel territorio e e in altre forme insomma però anche ovviamente adesso non posso che andare rapidamente insomma e accennare per sommi capi a a questa iniziativa che è molto interessante molto innovativa ma dall'altra parte proprio ehm là il coinvolgimento attivo eh nelle forme che ho citato sopra e secondo i modelli concreti che abbiamo sperimentato in queste progettualità ehm il coinvolgimento dei dei giovani avverrà appunto proprio per eh per costruire queste progettualità sulla base dei loro delle loro aspirazioni dei loro obiettivi ma appunto secondo queste metodologie che ho citato quindi eh sono state individuate queste città tra loro ovviamente c'è Caivano e proprio la prossima settimana abbiamo un incontro con i commissari di quella di quell'area ma anche ripeto con le istituzioni private e con le associazioni le parrocchie e attraverso i quali arriveremo rapidamente anche ad ascoltare i giovani. Grazie, grazie molte anche per il tempismo perfetto dottor Imperiale mi sembra molto importante quello che ci ha raccontato eh è un modo ulteriore per mettere a fuoco che di governo aperto e di amministrazione aperta nel nostro paese se ne fa e se ne fa molta al di là del fatto di essere o meno appartenenti alla community. Questo è un un incentivo per noi della community e per il Dipartimento della Funzione Pubblica che ha questo ruolo di facilitatore istituzionale di questi percorsi di apertura e di attuazione dei principi del governo aperto è uno stimolo per andare oltre e arrivare anche a scendere dal livello nazionale al livello locale ai livelli territoriali perché siamo consapevoli che è vero che c'è partecipazione, è vero che ci sono iniziative importanti e che il PNRR ha dato un impulso molto forte in questa direzione. Lei ha ricordato giustamente anche il fondo che è stato messo a disposizione per queste attività ed è molto importante che da questo punto di vista riusciamo ad avere un approccio strategico nazionale anche parlandoci fra diverse iniziative, tra diversi network, proprio per creare ancora di più una sinergia positiva. Mi viene molto facile dare la parola ad Emanuela Palmieri del Consiglio Nazionale Giovani perché passiamo dalla fascia d'età 14-18 dei bambini, dei territori e dei privati alla fascia d'età che parte dai 18 anni invece con il Consiglio Nazionale Giovani, un'esperienza istituzionale ancora relativamente recente nel nostro paese perché non è da molto, ma molto importante soprattutto per noi che vogliamo come dire creare una cultura del governo aperto. Quindi Emanuela Palmieri è rappresentante del Consiglio Nazionale Giovani nel nostro forum per il governo aperto e quindi ha questo importante anche ruolo dentro la nostra community. A te la parola Emanuela, prego. Buongiorno a tutti e grazie mille, è un piacere essere qui oggi nell'ambito insomma di questa settimana che è un evento straordinario che rappresenta come diceva la dottoressa Bellotti un'opportunità per confrontarci ma anche per condividere esperienze e buone pratiche ma soprattutto per favorire la partecipazione alle politiche del governo aperto. Come anticipava insomma il Consiglio Nazionale Giovani è parte integrante del forum per il governo aperto anche per quest'anno e il nostro contributo si focalizza su bisogni e strategie per rendere sostanzialmente la partecipazione pubblica come si diceva prima una leva fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nei governi e anche per migliorarne la qualità e l'efficacia soprattutto delle politiche pubbliche. Cosa è innanzitutto il Consiglio Nazionale Giovani? Siamo un organo istituito con legge la 145 del 2018 e rappresentiamo i giovani italiani nella loro interlocuzione con le istituzioni e in questo senso il Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale della Presidenza è il nostro principale interlocutore. Per raccontarci insomma le cose che abbiamo in comune, parafrasando una canzone, recentemente il Consiglio Nazionale dei Giovani ha condotto un'indagine sull'indice di fiducia dei giovani ed è un lavoro sostanzialmente che sintetizza anche un po' la missione molto simile a quella che conduce oggi P, ovvero indagare sulla condizione attuale delle nuove generazioni in vari ambiti del vivere sociale per trarre nuovi spazi e anche nuove metodologie per migliorarne la vita, la partecipazione dei cittadini più o meno giovani e appunto in questa fattispecie delle nuove generazioni. Questa indagine ha l'obiettivo di elaborare che cosa? Un indice complessivo che attraverso attività di ascolto, di coinvolgimento diretto dei giovani italiani sappia individuare il loro livello di fiducia verso diverse componenti della vita quotidiana. Lo facciamo attraverso 15 indicatori, l'indagine fornisce un quadro dettagliato che poi viene aggiornato a livello bimestrale e ci permette di monitorare l'evoluzione del sentimento dei giovani nel tempo. Questa è un'attività che ha ricevuto il supporto e l'impegno anche del Ministro Abodi che è l'autorità delegata in questo senso. I dati raccolti sono fondamentali anche per la pianificazione delle nostre attività e anche del nostro contributo in OGB perché si combinano in maniera perfetta con tutte le valutazioni di impatto generazionale soprattutto che sono state parate recentemente dal Consiglio dei Ministri e questo ci permette di comprendere meglio lo stato d'animo dei giovani e anche di orientare le politiche relative per esempio alla famiglia, al lavoro, alla formazione, più in generale all'imprenditorialità per esempio all'accesso al credito, alla salute, al benessere. Quindi insomma è un mare magnum di questioni e il sondaggio che noi abbiamo condotto insieme grazie al supporto scientifico dell'Istituto di Epoli ha rilevato un quadro complessivo ma anche molto complesso delle prospettive e delle preoccupazioni dei giovani italiani tra i 18 e i 35 anni. Nonostante le sfide, il 71% dei giovani per esempio, vi do qualche dato, mostra un ottimismo medio-alto insomma per il futuro soprattutto riguardo all'istruzione come fondamento per i loro progetti di vita e l'importanza dell'apprendimento anche che emerge molto chiaramente come le previsioni del World Economic Forum indica che entro il 2028 il 44% delle competenze dovrà essere aggiornato e voglio di nuovo in questo senso ribadire l'importanza di OGP che svolge un grande lavoro in tal senso perché per esempio anche l'intelligenza artificiale sebbene stia cambiando il panorama lavorativo è vista molto positivamente dai giovani italiani, più del 60% la vedete come una cosa molto positiva e nonostante ciò purtroppo come ben sappiamo persistono delle preoccupazioni per esempio per gli stipendi inadeguati, per la dipendenza economica dai genitori, per tutte le difficoltà nel trovare un lavoro stabile e l'indagine evidenzia in questo senso una percezione per esempio molto distorta della parità di genere e questo sottolinea la necessità di sensibilizzare ulteriormente su questo tema, anche per questo come CNG siamo molto felici di rappresentare e presiedere il sottogruppo diritti nell'ambito del forum per il governo aperto e per toccare per esempio un tema molto attuale di cui sentiamo e leggiamo tantissimo sui giornali rispetto alle generazioni precedenti, per esempio i giovani italiani dimostrano molta fiducia nell'Europa nonostante poi purtroppo sappiamo che i livelli di astenzionismo elettorale sono ancora molto alti. Concludo, quindi sarò brevissima, il nostro obiettivo anche come orgogliosi componenti di OGP che in merito, lo ribadisco, fa un lavoro straordinario è incoraggiare una maggiore partecipazione politica dei giovani portando le loro istanze anche all'attenzione del governo e individuando in maniera proprio pratica degli strumenti di supporto per affrontare quelle che saranno le sfide del futuro. Le giovani generazioni sono, come ha detto anche il Presidente Mattarella, la speranza per il futuro e sono felice che OGP, il Dipartimento per la Funzione Pubblica, più nello specifico, riconoscano e si impegnino per rafforzare collettivamente questo valore e anche l'essenzialità del contributo diretto delle nuove generazioni anche alla crescita dell'Italia. Per questo concludo, grazie alla dottoressa Bellotti, grazie al Ministro per la Funzione Pubblica e al Senatore Paolo Zangrillo che interverrà dopo, anche ovviamente al Dipartimento per la Funzione Pubblica per questo straordinario esercizio di partecipazione e di democrazia. Grazie. Grazie molte a te Emanuela che da giovane, da persona giovane quale sei, ci porti anche questo messaggio di tutti coloro che voi come Consiglio rappresentate. Credo che sia molto importante questa sottolineatura che tu hai fatto rispetto alla fiducia che i giovani hanno in alcune direzioni evolutive che sono importanti per coloro che hanno un futuro davanti a loro appunto come sono i giovani, cioè il fatto di dare importanza alla partecipazione del nostro paese all'Europa, dare importanza agli strumenti che la trasformazione digitale mette a disposizione e fra gli altri l'intelligenza artificiale che tu hai citato e che mi consentono, appunto questa citazione mi consente di ripassare nuovamente la palla per parlare in termini sportivi a un'altra giovane che è con noi oggi, Giuditta Bellosi di un'organizzazione della società civile Period Think Tank che sta collaborando a livello europeo con la Commissione nell'ambito di un importante progetto che ha iniziato già da un po', non da molto ma già da un po' a preoccuparsi di che cosa significa l'utilizzo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle politiche pubbliche e cosa significa soprattutto, come ha ricordato Emanuele Palmieri, ci sono molti diritti collegati all'esercizio delle politiche di governo aperto e quindi cosa significa l'intelligenza artificiale ai fini dei diritti, quindi per quello Giuditta ci sta per parlare di come bisogna e sia necessario assicurare l'equità algoritmica perché l'intelligenza artificiale può aiutare la partecipazione ma ha anche bisogno di partecipazione per funzionare al meglio. Prego, Giuditta, la parola a te. Grazie e buongiorno a tutti e a tutte, spero vediate il mio schermo. Allora, appunto, il mio intervento sarà breve e si occuperà della tematica del coinvolgimento e della partecipazione sul tema dell'intelligenza artificiale, tema che è entrato prepotentemente nelle nostre vite, è entrato diciamo da tempo ma con chat GPT e ora gli algoritmi anche di intelligenza artificiale generativi sono entrati sempre di più nelle nostre vite, è un tema sicuramente da portare all'attenzione. Spendo una parola su chi rappresento, io faccio parte di Period Think Tank che è un think tank femminista e promuove l'equità di genere attraverso un approccio femminista ai dati. Come diciamo sempre, noi vogliamo portare il femminismo nei dati e i dati nel femminismo. Nello specifico, come associazione, noi ci occupiamo di richiedere e cercare i dati di genere, quindi siamo strettamente collegati alla tematica del governo aperto e chiediamo dati disaggregati per poter appunto applicare un'analisi di impatto di genere sulle varie politiche. Su questo collaboriamo con varie istituzioni, abbiamo portato avanti anche come obiettivo il monitoraggio civico, facciamo delle scuole di monitoraggio in Italia sui dati del PNRR, da poco è uscita la nostra app online che permetta di vedere l'impatto di genere, soprattutto per quanto riguarda le deroghe avvenute sulle partecipazioni di donne e giovani all'interno dei nuovi appalti, così come andiamo a supportare le pubbliche amministrazioni nell'individuare politiche e misure finalizzate all'eliminazione delle disuguaglianze di genere. Nello specifico abbiamo in corso da un paio di anni la campagna dati per contare che ha visto come primi firmatari il comune di Bologna, il comune di Milano, il comune di Imola, Ravenna e si sta un po' diffondendo, che va proprio a richiedere una valutazione di impatto di genere ex ante sulle politiche e vede la sua traduzione in bilanci di genere accurati. Passo direttamente al progetto Equitas. Come period noi facciamo parte come associazione di rappresentanza della società civile per appunto la tutela dell'equità di genere di questo progetto che si chiama Equitas. Equitas è un progetto triennale europeo che ha lo scopo di sviluppare un framework per affrontare e contrastare i bias e le varie ingiustizie che si possono generare dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quello che si propone come obiettivo principale è quello di creare un ambiente, un environment di sperimentazione controllato che permetta appunto di andare a valutare sia per i dati di ingresso che per i risultati se sono presenti e come poter modificare e migliorare i bias presenti. Equitas fa parte del Fairness Cluster Human che è associato alla platform ed è gestito da AI for Europe, quindi all'interno del progetto europeo. I quattro scopi principali del progetto in breve sono l'identificazione dei bias che sono già presenti in algoritmi di intelligenza artificiale che sono in uso ad oggi o in fase di sviluppo, andare a fornire dei metodi pratici per poter eliminare questi bias, metodi che possono essere sia nell'utilizzo dei dati presi in carico che nel modello dati che è stato inserito, progettare dei nuovi sistemi di intelligenza artificiale tramite le metodologie di Fairness by Design e in ultimo ma non meno importante ed è il motivo per cui siamo qui a parlarne, la parte di sensibilizzazione e di partecipazione della società civile sui potenziali impatti sia sociali che legali dell'intelligenza artificiale dal proprio sviluppo fino al proprio utilizzo. All'interno di questo progetto sono seduti allo stesso tavolo figure molto differenti fra di loro ma per noi molto importanti perché abbiamo dal punto di vista degli enti abbiamo varie università tra cui l'Università di Bologna, l'Università di Cork in Islanda, l'Università di Valencia e altre università, abbiamo associazioni come può essere Period, Women in AI e altre associazioni della società civile, enti pubblici, aziende, enti di rappresentanza. Ma soprattutto come punto forte noi abbiamo seduti allo stesso tavolo i tre per noi aspetti che dovrebbero essere toccati dall'intelligenza artificiale ovvero un aspetto tecnico, quindi abbiamo gli sviluppatori e le sviluppatrici, i data scientist chi attivamente va a sviluppare e produrre gli algoritmi, abbiamo l'aspetto legale quindi avvocate, avvocati, esperte di diritto europeo e internazionale che quindi si occupano di come poi i risultati e i dati utilizzati possano essere coerenti dal punto di vista legale anche perché come molti voi sapranno è appena stata approvata la prima versione della IACT in Europa che andrà a normare l'utilizzo di questi algoritmi di intelligenza artificiale in alcuni contesti e poi abbiamo invece la parte di sociologhe, psicologhe e quindi la parte più di studi umanitari rispetto agli impatti di questi algoritmi. Vorrei fare un focus, come l'evento lo richiede, sulla metodologia cioè come noi all'interno del progetto Equitas, noi period e nello specifico abbiamo collaborato con l'Università di Bologna e con la professoressa Laura Sartori abbiamo coinvolto la società civile in questo processo e di seguito vi riporto un po' l'elenco delle attività che noi abbiamo fatto che possono essere utili a nostro parere per riflettere su qual è la metodologia per poter coinvolgere le persone in questo percorso. Siamo partiti a gennaio 2023 con un focus group che ha coinvolto le persone che potessero essere interessate a dare appunto il loro contributo sul tema dei bias e delle discriminazioni di genere intersezionali nell'intelligenza artificiale. Abbiamo pescato da due insiemi principali o persone che facevano parte di categorie discriminate quindi discriminazione per genere, orientamento, appartenenza ad alcune categorie, classi sociali e varie o persone che facevano parte direttamente dei team tecnici quindi sviluppatrici, studenti dell'università che si occupano di informatica, ingegneria informatica, eccetera e abbiamo tenuto questi focus group di dibattito interno in cui si potessero andare un po' a evidenziare quali fossero a loro parere rischi e potenzialità del tema. Successivamente abbiamo fatto un'analisi interna come associazione io mi occupo di analisi dati, collaboro con altri componenti della nostra associazione che sono dei data scientists e altre che si occupano invece più di sociologia e psicologia e abbiamo fatto un'analisi interna rispetto ad alcuni punti su per noi e per i focus group che abbiamo tenuto quali punti fossero emerse sugli impatti e rischi e l'atteggiamento verso il quale ci si poneva con l'intelligenza artificiale. Alcuni di questi poi, per esempio, rischi potenziali sono stati riconosciuti nell'I-ACT come per esempio forme di credito o vari indici che possono appunto permettere l'accesso o meno al credito bancario. Successivamente abbiamo fatto questo sondaggio gennaio 2024 qui c'è il link che vi invito a compilarlo o diffonderlo il più possibile e anche questo sondaggio per la società civile in cui dopo una prima analisi iniziale quindi rispetto a che ruolo ho io lavorativo e non nella mia vita si va a monitorare e vedremo i risultati nei prossimi mesi in cui chiuderemo il sondaggio quali sono sia qual è il livello di conoscenza dell'intelligenza artificiale della persona sia quali sono i suoi maggiori timori o le opportunità che lui vede questo sempre rispetto con domande chiuse e non solo domande aperte quindi in modo che si possa andare a fare poi una valutazione mirata di questo sondaggio rispetto appunto agli algoritmi di intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo fatto due workshop interessanti perché uno, il primo della violenza illustrata era con figure, persone non tecniche era all'interno di un evento che viene fatto a Bologna che è appunto il festival della violenza illustrata e noi ci siamo rivolte a persone che non erano a conoscenza particolarmente o non si occupavano nella loro vita di intelligenza artificiale e successivamente abbiamo ripetuto questo workshop invece ad un festival sempre a Bologna che si chiama Reclaim the Tech che è mirato sugli impatti della tecnologia e che ha quindi un pubblico di persone addette ai lavori. Il punto era andare ad analizzare uno screening dei curricula perché lo screening dei curricula è uno dei punti dei casi studio del progetto Equitas ed andare a vedere come a loro parere un algoritmo di screening quindi basato sull'intelligenza artificiale possa agire su questi curricula anche perché una certezza è che ovviamente gli algoritmi di intelligenza artificiale per lo screening dei CV sono già utilizzati e sono utilizzati al 70% delle aziende circa quindi è una cosa al quale noi ci dobbiamo già interfacciare e questo ha prodotto dei risultati molto interessanti sempre con una parte di advocacy sul tema e quello che arrivando a concludere un po' il mio intervento quello che per me è più per noi è più interessante per la platea di oggi è andare a sottolineare quali siano le sfide emerse per il coinvolgimento della società civile allora prima di tutto c'è una sfida cross competenze cioè mettere a parlare allo stesso tavolo tecnici, psicologi e legali è molto complesso sul tema dell'intelligenza artificiale perché appunto ci sono delle limitazioni legali ma ci sono anche delle limitazioni tecniche nello sviluppo di questi algoritmi anche perché questi algoritmi nascono per essere efficienti e quindi da un certo punto in poi è necessario valutarne proprio un'efficienza tecnica e quindi portino dei risultati per invece il coinvolgimento diretto della società civile la prima grande sfida è quella di poter diffondere che cos'è l'intelligenza artificiale e qual è la differenza tra un algoritmo di intelligenza artificiale e un algoritmo decisionale deterministico nel quale quindi io so esattamente dato la mia partenza qual è il mio arrivo e quindi posso agire direttamente su una modifica in caso di discriminazione un algoritmo di intelligenza artificiale auto apprende da se stesso e quindi andarlo a modificare una volta generato è molto più complesso che andare ad agire in fase di sviluppo la seconda cosa su cui noi stiamo molto premendo nelle nostre analisi e ricerche è se ci sono già delle discriminazioni algoritmiche subite o ci sono persone consapevoli di discriminazioni algoritmiche all'estero questa cosa è già in corso perché in stati come per esempio l'America c'è già un utilizzo massivo di questi strumenti e quindi si trovano già discriminazioni in corso in Italia ancora almeno per la nostra percezione è un po' per fortuna complesso trovare persone per ora gli unici aspetti dell'intelligenza artificiale sono i sistemi di riconoscimento facciale nello specifico quelli utilizzati per la lettura dei passaporti le uniche feedback che noi abbiamo ritrovato sono lettura di passaporti per persone nazializzate piuttosto che per altre connotazioni altro punto che è sicuramente una sfida è farne capire l'urgenza perché come dicevo mentre in un algoritmo deterministico è possibile agire anche post produzione in un algoritmo di intelligenza artificiale è molto complesso poter tornare indietro e agire di conseguenza e quindi è necessario che ci sia consapevolezza sia delle persone rispetto a dove venga utilizzato i dati che vengono dati da parte loro e poter richiedere che vengano normate alcune cose in ultimo il punto che secondo noi è veramente molto interessante con cui concludo è capire poi dopo dal punto di vista filosofico e legale dove sa la responsabilità dell'impatto dell'intelligenza artificiale sintetizzandola molto velocemente appunto un algoritmo è formato dai dati che metto dentro il modello che formo e i risultati che ottengo quindi ho tre step in cui io posso essere dove posso trovare un responsabile chi sviluppa chi ha richiesto l'algoritmo quindi chi paga l'algoritmo e infine come utilizzo i risultati che ho da questo algoritmo come manutengo il dato dove lo trovo se la persona su cui lo sto utilizzando è consapevole o meno di quello che sto facendo e questo è un po' l'analisi che si porta avanti anche proprio sul tema dell'intelligenza artificiale che è il dibattito probabilmente più caldo e con questo concludo ringrazio a nome di periodo del progetto Equitas per la possibilità di questo intervento e vi invito in questa presentazione ci sono i vari link per visualizzare sia tutto il materiale del progetto che di diffondere il sondaggio grazie grazie moltissimo Giuditta sei stata molto precisa ed è confortante direi per la community e il governo aperto sapere che ci sono giovani donne così competenti che si stanno occupando di un tema che può impattare in maniera così importante sui diritti e l'uguaglianza di genere e non solo perché comunque come hai chiarito sono davvero molti gli aspetti da presidiare voglio ricordare che la professoressa Sartori è stata coinvolta da noi per la settimana dell'amministrazione aperta e parlerà in occasione del nostro webinar sulle tecnologie digitali che si terrà il 29 e voglio concludere dicendo che abbiamo già avviato un ragionamento con periodo affinché periodo ci sia al fianco a fianco della community e del forum per il governo aperto nel trattare questo delicato tema dell'intelligenza artificiale e degli impatti che può avere perché c'è un'alta sensibilità nella nostra community rispetto al tema e anche al forum e sicuramente all'interno del nostro prossimo piano nazionale per il governo aperto vogliamo immettere un'azione dedicata sulla quale mettere a disposizione l'intelligenza collettiva della nostra community di cui appunto periodo è parte non a caso proprio per dare un contributo ulteriore alla ricerca che è in corso e all'analisi che è in corso quindi sia in collegamento con l'università di Bologna che con periodo sicuramente progetteremo a breve un'iniziativa che ci vedrà impegnati nei prossimi due anni circa insomma a continuare a contribuire a far sì che la partecipazione migliori la I potenzialmente e che lì l'intelligenza artificiale diventi uno strumento potente per migliorare la partecipazione grazie sarà e dovrà essere una win-win partnership dobbiamo riuscirci grazie Giuditta e do a questo punto la parola alla Regione Emilia-Romagna e in particolare all'assessore Paolo Calvano che credo sia presente anche se non lo vedo ancora in video l'assessore tra le molte altre cose anche alla partecipazione nella Regione Emilia-Romagna la Regione Emilia-Romagna è un partner istituzionale molto attivo nella nostra community per il Governo Aperto già fin dal primo mandato ha avuto collocazione all'interno del nostro forum dimostrando concretamente con le proprie pratiche con le proprie attività con i propri progetti che cosa significa puntare a realizzare un Open Regione che è appunto il titolo di questo intervento e passo la parola all'assessore che ancora non vedo ma che spero Mi sentite? Sì, sì, eccola Piacere di rivederla ci siamo incrociati l'anno scorso al Festival della Partecipazione da voi e continuiamo il nostro percorso di collaborazione insieme a lei la parola prego Grazie mille grazie dell'invito ad essere qua con voi e grazie anche all'opportunità di poter raccontare alcune cose che stiamo facendo in Emilia-Romagna e che spero possano essere utili più in generale al sistema delle regioni e degli enti locali noi siamo alquanto orgogliosi di poter far parte di questa community così come siamo altrettanto orgogliosi di poter dare un contributo all'interno del forum per il governo aperto così come credo sia stato un risultato importante quello di arrivare a definire questo hub nazionale della partecipazione ora si sta lavorando se non vado errato al sesto programma di attività e anche su questo proveremo come regione insieme a tanti altri i tanti altri soggetti a dare un contributo che parta anche dalla nostra esperienza un'esperienza che sul tema della partecipazione vede Emilia-Romagna lo dico in una logica di premessa aver deciso di dotarsi di una legge sulla partecipazione quindi di dare dignità legislativa al tema della partecipazione lo hanno fatto anche altre regioni non lo hanno fatto tutte e credo che questo sia un primo stimolo che noi possiamo dare al sistema delle regioni nel suo insieme lo dico perché il tema della partecipazione è strettamente connesso con il tema della salute della democrazia la salute della democrazia è un po' a rischio diciamo così il dato di partecipazione alle elezioni alle elezioni di diverso genere a diversi livelli credo che sia un segnale molto preoccupante lo dico anche in previsione di una tornata elettorale come quella delle europee dove siamo passati dal 85% di partecipazione in Italia 45 anni fa al 55% se non vado errato di 5 anni fa delle ultime elezioni io spero che questo trend possa essere invertito già a partire da queste elezioni e quindi il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche confido possa dare un contributo quindi anche in tal senso come regione stiamo provando anche a collocare il tema della partecipazione dentro quelle che sono le nuove tecnologie e quelle che sono i nuovi orizzonti abbiamo sentito prima una bellissima relazione sul tema dell'intelligenza artificiale di come l'intelligenza artificiale ci pone ulteriori quesiti su come costruiamo anche gli algoritmi rispetto a evitare che diventino algoritmi passatemi il termine di parte o non adeguatamente rispettosi di tutto quello che è l'insieme della nostra popolazione compreso tutto il tema delle discriminazioni di genere e non solo dicevo abbiamo provato a far sì che le persone potessero partecipare sempre di più anche utilizzando strumenti strumenti più moderni quando abbiamo costruito la nostra piattaforma online partecipazioni l'abbiamo fatto proprio in questa logica l'abbiamo messo a disposizione proprio di quella di quella legge noi attraverso la legge abbiamo fatto bandi in questi quattro anni per 2 milioni 800 mila euro di finanziamenti nei confronti degli enti locali o delle associazioni del terzo settore perché potessero avviare processi partecipativi nelle loro comunità lo step aggiuntivo che abbiamo fatto nell'ultimo bando dell'anno scorso e ne abbiamo seguito anche quest'anno è di consentire loro di usare la nostra piattaforma per poter far partecipare ancora di più le persone e 30 progetti hanno deciso di utilizzare di utilizzare questa piattaforma tenete conto che nel corso del giudatore abbiamo finanziati 160 di progetti che hanno portato anche a risultati molto concreti non solo sul tema della partecipazione dei cittadini sulla realizzazione di un'opera pubblica ma anche su temi più diversificati rispetto al tema solo appunto delle opere pubbliche l'obiettivo è fare in modo che questa piattaforma poi diventi un bene pubblico cioè non sia solo una cosa che l'Emilia Romagna fa per le iniziative che Emilia Romagna propone attraverso le leggi per la partecipazione ma che diventi anche uno strumento che gli enti locali possano usare più liberamente e autonomamente come regione stiamo anche rafforzando due strumenti il primo è quella della valutazione di impatto anche qui di nuovo torna il tema del genere sulle leggi abbiamo introdotto la necessità di fare una valutazione di impatto delle leggi sul versante del genere delle discriminazioni di genere del tema del genere più largamente inteso e a questo abbiamo preso un impegno che a questo punto rendiremo esigibile con la prossima legislatura essendo questa in una fase conclusiva di avviare anche su alcune leggi su alcune proposte anche un citizen panel sul modello di quello che fa l'Unione Europea che devo dire ha ritrovato da parte mia grande interesse ma da parte dell'assemblea più in generale grande interesse che vorremmo provare quindi a che vorremmo provare a replicare vogliamo anche metterci alla prova la dico così avvieremo anzi abbiamo già avviato una mappatura di come facciamo partecipazione come ente regione perché attraverso la legge cerchiamo di stimolare i processi partecipativi negli enti locali a cascata nel stesso settore e tutti gli altri vogliamo anche un po' metterci alla prova noi ed ecco perché andremo a valutare quello che abbiamo fatto fino ad oggi proviamo a introdurre nuovi strumenti come appunto quello del del citizen del citizen panel e vorremmo provare anche a anzi abbiamo già messo in campo strumenti di partecipazione rilevanti su quelle che sono le politiche territoriali su due versanti il primo è legato al tema di quei territori un po' ai margini quelle che vengono definite le cosiddette aree interne che da noi sono aree interne e aree montane affinché queste aree possano svilupparsi le abbiamo dotate di alcuni fondi appositi dedicati anche utilizzando e sfruttando i fondi europei abbiamo messo a disposizione di queste strategie territoriali delle aree montane interne 97 milioni di euro in quest'ultima in quest'ultima programmazione ma a questo abbiamo affiancato anche uno strumento che è il laboratorio per le strategie territoriali integrate che possa far sì che quelle aree che sono spesso svantaggiate anche in termini di dotazione di competenze ma non perché non ci siano persone adeguate anzi ci sono uomini e donne che molto impegnate dentro quelle pubbliche amministrazioni ma a volte si è poco attrattivi rispetto a ulteriori competenze che servirebbero per affrontare fasi così complesse e quindi abbiamo messo a disposizione questi laboratori per determinare una crescita della loro capacità della loro capacity building una crescita quindi della loro capacità di mettere a terra gli obiettivi che ci si dà attraverso le strategie territoriali ma il tema della partecipazione lo abbiamo sfruttato enormemente nella costruzione del nostro piano di riordino territoriale che sembra una parola così complicata in realtà noi stimoliamo i comuni a mettersi insieme e a farlo andando a costituire anche delle unioni dei comuni in modo tale da poter gestire alcuni servizi insieme venendo anche qui incontro soprattutto alle necessità dei comuni più piccoli dei comuni più in difficoltà ci dotiamo ogni anno di uno strumento che si chiama appunto piano di riordino territoriale ogni tre anni scusate nel quale diamo contributi per incentivare queste forme aggregative la scelta sul piano di riordino territoriale 2024-2026 è stato di costruirlo dopo un lungo percorso di confronto con il territorio in cui a partire dall'assessore e dalle strutture dell'assessorato abbiamo fatto cinque incontri territoriali abbiamo aperto la piattaforma che citavo prima partecipazioni come piattaforma per offrire spunti riflessioni all'assessorato che appunto doveva costruire questo piano abbiamo costruito gruppi di lavoro anche qui iterogenei anche questo per avere l'opportunità come assessorato di raccogliere le esigenze che c'erano mettendo insieme poi tutto questo abbiamo costruito il piano di riordino territoriale che confidiamo che essendo stato così partecipato gli enti lo sentano ancora più loro e se ne sentano ancora più protagonisti perché la bellezza della partecipazione è questa far sì che un bene che sia un bene materiale o un bene immateriale attraverso la partecipazione venga sentito dai protagonisti come un bene loro che ancora più ancora più spinti quindi a tutelarlo in una logica di un bene loro ma che in realtà ha un interesse ha un forte interesse pubblico ripeto che sia un bene materiale o un bene o un bene immateriale come ad esempio il tema delle competenze o dei piani che siamo andati a costruire quindi vogliamo provare a dare un contributo alla costruzione delle politiche appunto di open government dei prossimi anni di volerlo dare sia in un rapporto con le altre regioni e gli enti locali ma anche nel rapporto ovviamente con il governo e dentro quello che appunto l'hub della partecipazione da noi fortemente voluto e che è stato inserito meritoriamente dentro le politiche nazionali consentendoci oggi di fare anche iniziative come queste e di fare in modo che non rimangano che non rimangano tali ma che siano iniziative che stanno dentro un processo di contaminazione reciproca che dentro una comunità di pratiche di buone pratiche possa diffondere quella che è la politica della partecipazione grazie mille Assessore grazie a lei è stato molto capace di dare l'idea di che cosa significa quando nelle strategie mondiali del governo aperto si dice che è necessario andare beyond the ballot box cioè ha insieme ricordato come il tema è quello della mancata come dire capacità dei cittadini ma è un fenomeno che sappiamo essere non soltanto nazionale ma diffuso di esprimersi attraverso il voto ma quello che stiamo facendo è comunque quello che lei ha dimostrato chiaramente analiticamente che state facendo come regione è andare ben oltre questo tipo di aspettativa aspettativa importante perché è chiaro che in democrazia rappresentativa è fondamentale l'espressione del voto ma forse si può ricostruire quella fiducia che è venuta meno proprio attraverso una capacità così analitica così pervasiva che un'ente regione che per noi è molto importante nel nostro paese dal punto di vista proprio come è stata costruita la nostra Costituzione avere la capacità di occuparsi non soltanto dei cittadini a tutti i livelli ma di supportare l'interno della propria organizzazione con un'attenzione particolare ad avere una politica strategica verso la partecipazione e quindi valutare anche quello che in forme diverse è stato realizzato in questi anni perché ogni ambito di policy ha agito la leva della partecipazione in modi diversi e quindi voi siete una specie di laboratorio avanzato di come si può fare partecipazione già dentro casa vostra e poi state usando in maniera corretta anche in linea con quello che è lo stimolo che deriva sicuramente dalle politiche nazionali anche dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con l'attenzione ai piccoli comuni con l'attenzione alle aree territoriali interne con l'attenzione e l'importanza di essere appunto capaci di usare la partecipazione come un modo per creare valore pubblico lei ha parlato della bellezza della partecipazione come un bene di tutti secondo me questa associazione è un'associazione molto efficace e concreta perché quando parliamo di valore pubblico dobbiamo intendere beni di tutti cioè ciò che per la collettività ha un significato come dire incontrovertibile di valore aggiunto ha il significato di quello che vogliamo con le politiche pubbliche mettere a disposizione dei cittadini quindi la ringrazio Assessore sono molto convinta del fatto che il vostro ruolo dentro il forum per il governo aperto serve non soltanto per dimostrare a livello mondiale nella partnership come si possa costruire perché comunque sono molti gli stati che sono organizzati in senso federale o comunque con organismi simili alle nostre regioni e quindi questo può diventare un modello proprio anche da rappresentare all'esterno e poi per le ricadute che si possono ottenere e si devono ottenere all'interno del nostro contesto nazionale la conferenza delle regioni di cui voi fate parte e abbiamo la regione Liguria nel forum abbiamo la regione Puglia non a caso insomma ci sono altre regioni come voi che hanno da tempo prodotto delle norme sulla partecipazione e stiamo lavorando tutti insieme e la seconda parte di questo evento lo dirà in modo concreto a indirizzare ancora di più gli sforzi di livello nazionale per tradurre le politiche partecipative in modo innovativo e in modo sostanziale a supporto dei processi di democratizzazione grazie Assessore la ringrazio doveva a questo punto intervenire il Ministro e interviene anche se in video purtroppo è stato come dire il compromesso che abbiamo trovato rispetto al fatto che non mancasse a questo appuntamento e ci teneva il Ministro a non mancare ma il periodo lo sapete è quello che è quindi era difficile conciliare in maniera precisa tutte le agende e quindi chiedo alla regia di mandare in onda l'intervento del Ministro Paolo Zangrillo Ministro della pubblica amministrazione nonché senatore Cari amici della community italiana per il governo aperto intanto vi devo chiedere scusa perché impegni istituzionali non mi permettono di partecipare fisicamente a questo appuntamento a questo importante appuntamento come effettivamente avrei desiderato e quindi attraverso un breve messaggio vorrei condividere con voi alcune considerazioni in merito a questo tema quello della partecipazione pubblica che ritengo personalmente essere un tema centrale per rafforzare soprattutto considerando il momento storico che stiamo vivendo il rapporto di fiducia reciproca che vi deve essere tra governo e cittadini sono consapevole sono assolutamente consapevole dell'importanza di testimoniare in occasione del lancio a livello nazionale della Open Gov Week 2024 un evento peraltro condiviso con la partnership per il governo aperto a livello mondiale l'appoggio istituzionale del dipartimento del mio dipartimento e quello mio personale come ministro per la pubblica amministrazione alle iniziative che abbiamo immaginato a supporto di questo evento su richiesta del forum per il governo aperto a nome della community nazionale che è composta da più o meno 100 realtà tra amministrazioni e organizzazioni della società civile ho accolto quindi con favore l'idea di aderire alla proposta di istituzionalizzare un appuntamento annuale con il governo aperto in occasione proprio della Open Gov Week un'idea che lo voglio ricordare fu lanciata nel 2017 dall'Italia e poi fatta propria dalla partnership a livello mondiale l'anno successivo nel 2018 un'occasione che penso sia strategica per far conoscere a livello nazionale gli avanzamenti i progressi raggiunti nell'attuazione dei principi del governo aperto e anche per poter riaffermare annualmente quindi in maniera strutturata da parte del vertice protempore l'impegno a promuovere tali principi anche lanciando delle iniziative comuni come ho avuto modo di affermare più volte sin dall'inizio del mio mandato io considero i principi del governo aperto dei veri e propri pilastri per il rafforzamento delle democrazie e questo in linea anche con la posizione italiana in ambito Ocse che appunto raccomanda l'attuazione di vere e proprie strategie nazionali di apertura e quindi trasparenza accountability integrità promozione dello spazio civico trasformazione digitale inclusiva ecco sono tutti elementi che sottengono diritti che sia pure protetti costituzionalmente nel caso del nostro paese dell'Italia in alcuni casi non risultano essere ancora concretamente agibili da tutti i cittadini non è un caso se il piano nazionale delle prese resilienza presta proprio una particolare attenzione ai problemi delle disuguaglianze disuguaglianze di genere disuguaglianze intergenerazionali e territoriali e io credo che sia proprio la partecipazione della società civile alla definizione delle politiche pubbliche elemento centrale delle politiche di amministrazione aperta a poter fare la differenza ecco voglio ricordare che proprio lo scorso dicembre la partecipazione pubblica è stata oggetto di una dettagliata raccomandazione della Commissione europea che richiede agli stati membri azioni puntuali a protezione del diritto dei cittadini europei ad essere informati e a partecipare ai processi decisionali pubblici su questo tema ritengo che ci sia ancora molta strada da fare però al tempo stesso va rilevato che sono in costante aumento i processi di consultazione su piani e programmi proposti da attori nazionali nell'ambito delle diverse politiche e che si avvalgono della piattaforma partecipa gestita dal dipartimento di funzione pubblica quindi io trovo ritengo centrale sollevare la questione della partecipazione pubblica quale mezzo non solo come posso dire per aumentare la fiducia dei cittadini ma anche per avvalersi dell'intelligenza collettiva presente nella società civile e quindi coprodurre valore pubblico per riprendere appunto il titolo di questo vostro incontro e a questo proposito il panel che viene proposto nell'evento di oggi sulle strategie da attuare per dare adeguate risposte ai bisogni degli utenti assume io credo una rilevanza strategica in considerazione proprio dei repentini cambiamenti che noi possiamo osservare nello scenario internazionale dare voce con la costituzione di un consiglio delle bambine e dei bambini alla popolazione di un territorio deprivato a rischio di criminalità diffusa come quello di Caivano io credo sia la dimostrazione dell'importanza delle pratiche inclusive e della possibilità di realizzarle anche in quei luoghi anche laddove sembrerebbero mancare nel tessuto sociale le condizioni minime per un agire condiviso allo stesso modo ascoltare le esperienze del consiglio nazionale dei giovani è importante è importante non solo sotto il profilo dei diritti di partecipazione ma anche e io credo soprattutto come investimento per lo sviluppo economico e sociale del paese nonché per la sua stabilità democratica ora interrogarsi sul contributo che la società civile può fornire per assicurare un utilizzo più equo dell'intelligenza artificiale significa approcciare alla stessa come una opportunità strategica per prevenire di diseguaglianze e al contempo ridurle proprio perché l'intelligenza artificiale se indirizzata opportunamente potrà rendere più inclusivi i processi di partecipazione così come credo che sia strategico l'impatto di una politica che riesce a dar voce ad un intero territorio nel caso della regione Emilia-Romagna per esempio promuovere pratiche partecipative in tutto il territorio regionale comprese le zone interne delle piccole comunità montane ha prodotto come risultato coesione sociale valore pubblico testimoniato da buone pratiche riconosciute di successo anche a livello europeo tutto questo accade nel nostro paese accade in Italia laddove si incrociano volontà e competenze pubbliche con la presenza nei territori di associazioni del terzo settore che collaborano all'avvio alla realizzazione di progetti di partecipazione e animazione territoriale volti proprio a contrastare la povertà educativa e i fenomeni di emarginazione sociale un anno fa sempre in occasione dell'apertura del OG Week nazionale ero proprio con voi a promuovere il lancio del Lab partecipazione un'iniziativa che io ho trovato significativa per dare visibilità al grande lavoro realizzato da molte amministrazioni come quelle che sono presenti oggi e dalle organizzazioni della società civile che con altrettanta competenza collaborano su più fronti per rendere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche pubbliche un fatto concreto sono peraltro informato del fatto che sono state attivate nell'ambito della comunità di pratica del Lab diverse aree di lavoro di cui si parlerà nella seconda sessione del webinar che state realizzando un percorso ampiamente partecipato di aggiornamento dei principi alla base appunto dei processi di partecipazione quindi la giornata è un'occasione per presentare un draft della revisione degli stessi che a breve sarà posto in consultazione pubblica lo step successivo sarà quello di procedere nella co-creazione di linea guida sulla partecipazione nella convinzione che alla luce proprio delle molte novità presenti nell'attuale contesto e delle trasformazioni tecnologiche in atto il momento è assolutamente propizio per supportare la diffusione e l'innovazione delle pratiche di partecipazione a tutti i livelli di governo attendo attendo quindi di ricevere dall'hab l'esito di questo lavoro di questo importante lavoro che credo si dovrebbe concludere entro la fine dell'anno per valutare poi in collaborazione con il forum per il governo aperto i passi successivi che dovremmo compiere per concludere cari amici io voglio con forza confermare l'intenzione di programmare un percorso per introdurre nel dipartimento della funzione pubblica in attuazione dell'importante principio della trasparenza degli interessi l'utilizzo dell'agenda aperta dei vertici e favorire questa pratica nelle altre amministrazioni con opportune linee guida e con con forme di supporto a livello nazionale sono certo che anche su questo terreno la collaborazione del forum non mancherà pertanto auguro a tutti voi buon lavoro oggi nei prossimi giorni che saranno animati da eventi organizzati dal dipartimento della funzione pubblica e dagli attori della community OGP Italia buona settimana dell'amministrazione aperta eccoci di nuovo chiedo di avere di avere lo schermo davvero sono dispiaciuta che il ministro non sia qui ma spero che il messaggio che ha portato che ha voluto portare è anche molto ampio dettagliato e anche di impegno trasformativo da parte del dipartimento della funzione pubblica con questo tema sia delle linee guida per la partecipazione da creare insieme e sia dell'introduzione dell'agenda aperte a livello dei vertici con un passo diciamo in avanti che è stato da molto e per molto auspicato dal forum per il governo aperto abbiamo diversi attori all'interno che sono interessati che sono già loro stessi attori e agenti di questo tipo di politica molto molto importante per la nostra partnership come l'ANAC come la regione Puglia che ha già una sua forma da questo punto di vista di apertura delle agende quindi insomma come ha detto il ministro forse è il momento della partecipazione forse dobbiamo tutti spingere perché per far sì che l'intelligenza collettiva che si è esercitata sulle politiche di partecipazione nel nostro paese e che si sta esercitando su questo nei diversi ambiti settoriali diventi un motore per portare tutto il paese in questa direzione passiamo alla seconda parte dei nostri lavori con un pochino di ritardo ma cercheremo di recuperare e comunque spero che l'interesse per quello che è stato detto finora porti la nostra audience molto elevata perché abbiamo quasi 100 partecipanti che ci stanno seguendo ad arrivare fino alla fine di questi lavori e passiamo a parlare del lab della partecipazione pubblica attività e sfide chiedo alla regia di inserire le slide per potervi brevemente presentare dare qualche elemento sull'ab lab è stato citato citato più di una volta è stato citato sia dall'assessore calvano e sia dal ministro e per chi non lo conosce l'abbiamo creato co-creato nell'ambito del quinto piano nazionale per il governo aperto nel 2023 è stato lanciato come ha ricordato il ministro in occasione della settimana dell'amministrazione aperta dell'anno scorso nel maggio dell'anno scorso e ha degli obiettivi precisi come dire di creazione di una sede nazionale di confronto di riferimento di scambio di iniziative di pratiche sul tema della partecipazione quindi quello che stiamo facendo già da un anno con passi successivi è proprio promuovere una community di amministrazioni cittadini associazioni esperti soggetti finanziatori perché ovviamente c'è anche un ruolo da parte degli enti esponenziali da questo punto di vista proprio per aiutare a diffondere a conoscere e a innovare le pratiche di partecipazione è stata aperta allo scopo una comunità di pratiche che si è articolata in diversi linee di lavoro aree di lavoro le chiamiamo ed è un esercizio pilota sperimentale anche questo perché stiamo nell'ambito della piattaforma partecipa che il ministro ha voluto ricordare per la funzione che ha di promozione delle attività di consultazione di livello nazionale soprattutto da parte dei ministeri già dal 2019 ma all'interno della piattaforma partecipa che si avvale del software desidim quindi di uno dei software che anche a livello mondiale viene utilizzato per promuovere forme di partecipazione assistite e supportate dalla trasformazione digitale abbiamo appunto innestato l'hub come dicevo è una sperimentazione perché ci sono degli impatti degli elementi che rendono paradossalmente difficile collaborare in maniera paritaria ma noi ci sforziamo di farlo perché questa è la nostra direzione strategica e ci sono associazioni della società civile che hanno assunto responsabilmente il ruolo di animatori di aree di lavoro ma per esempio abbiamo dei piccoli problemi legati alla normativa sulla privacy per la gestione delle liste di partecipanti e di iscritti quindi insomma è ancora un work in progress il nostro app è un work in progress rispetto al quale richiamiamo l'attenzione di tutti coloro che sono presenti per continuare insieme questo percorso vedete qui sinteticamente rappresentati un po' degli esiti di quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno creando appunto attivando sei aree di lavoro della comunità di pratiche raccogliendo 350 iscrizioni alle diverse aree di lavoro arricchendo un'area di strumenti a supporto con dieci sezioni quindi trovate da linee guide a norme a strumenti un'articolata area di interesse informativo per coloro che si occupano di partecipazione e abbiamo anche prodotto pubblicato delle esperienze esemplari esemplari nel senso che vogliono rappresentare in concreto quelli che sono i criteri che finora l'Hub attraverso i suoi promotori ha voluto identificare come criteri di qualità di ogni processo partecipativo quindi nel percorso di cui oggi parleremo abbondantemente di definizione come ha ricordato il ministro di possibili definizioni di linee guida nazionali per la partecipazione siamo partiti proprio da riflessione sui criteri sulla qualità e darò la parola a breve ad IP2 che da questo punto di vista rappresenta una delle aree di lavoro proprio quella della qualità della partecipazione all'interno del Lab ma andiamo con ordine ci sono appunto abbiamo detto diverse aree di lavoro e voglio chiamare prima di tutti a parlare raccontarvi brevemente di che cosa sta facendo come attività Action Aid che è uno degli attori diciamo che 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 si occupa di una di queste aree di lavoro lascerei questa slides per dopo perché diciamo la collegheremo un po' al tema delle sfide successive e darei la parola a Marco Marco Polvani che per Action Aid ci racconta che cosa si fa nella loro area di lavoro prego Marco Marco ti abbiamo perso prova a parlare mi sentite? sì ora sì ora sì vai non mi sentite? sì ora sì però ora sì perfetto grazie allora grazie mille per l'invito a partecipare a questo interessantissimo incontro e io sono appunto Marco Polvani di Action Aid e coordino insieme all'associazione LabSus lavoratore per la subsidiarietà all'area di lavoro appunto dedicata all'amministrazione condivisa e a poter fare di comunità all'interno del lab della partecipazione in estrema sintesi quell'area che si occupa di seguire e approfondire tutte quelle pratiche collaborative e partecipative di coprogettazione e cogestione dei beni e servizi pubblici svolte svolte su un piano paritario tra pubbliche amministrazioni enti del terzo settore e associazioni formali ed informali ora come forse voi saprete il ricorso a queste procedure di collaborazione a queste pratiche collaborative è notevolmente aumentata negli ultimi anni di pari passo anche con la produzione normativa di riferimento a partire dalla prima e pioneristica legge 328 del 2000 fino ad arrivare all'articolo 55 del codice del terzo settore e alla promulgazione delle linee vita ministeriali del 2021 in cui vengono per la prima volta disciplinati i percorsi di coprogettazione e coprogrammazione per la gestione di una serie di servizi e beni di pubblico interesse ma basti pensare anche alle numerose normative regionali prodotte negli ultimi anni che regolano i rapporti tra gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni come quella ad esempio innovativa nella regione Emilia Romagna appunto o i regolamenti per l'amministrazione condivisa che sono approvati in molti comuni nel quale è stato approvato appunto a Bologna visto che ci sono anche rappresentanti dell'Emilia Romagna queste sperimentazioni hanno portato alla creazione di progettualità innovative e partecipate per rispondere meglio ai crescenti bisogni sociali ma anche a una serie di criticità in particolare su come si debbano effettivamente realizzare le procedure di coprogettazione e coprogrammazione e dei servizi o sulla conoscenza anche di questi strumenti che non sono ancora molti diffusi specialmente nelle pubbliche amministrazioni più piccole o delle aree interne marginali di cui si faceva riferimento anche prima ecco questo gruppo di lavoro all'interno del Lab nasce quindi con l'intento di mettere in rete gli attori pubblici e privati che si occupano di tali pratiche per approfondire alcune di queste criticità e quindi a partire da un incontro che abbiamo avuto allo scorso festival della partecipazione a Bologna a settembre dell'anno scorso 40 organizzazioni della società civile si sono trovate insieme per definire alcune fasi minime necessarie per sviluppare percorsi di coprogettazione che siano realmente tali e abbiamo a questo fine prodotto insieme un documento che è dentro gli spazi della partecipazione in cui sono riportati appunto i principali risultati di questo workshop e che adesso stiamo provando a valorizzare e diffondere e anche a continuare a implementare in progress all'interno dello spazio del Lab per appunto diffonderlo e valorizzarlo poi ci siamo confrontati con alcuni degli iscritti e delle iscritte al Lab è immersa la necessità di provare a diffondere l'utilizzo di queste pratiche specialmente nelle pubbliche amministrazioni più piccole come dicevo prima nelle aree interne marginali infatti abbiamo in programma anche una serie di incontri anche con la Scuola dei Piccoli Comuni coordinata dall'Università del Molise per provare a diffondere queste pratiche anche nelle amministrazioni più periferiche recentemente abbiamo organizzato sempre nell'alveo delle attività del Lab un incontro di presentazione di uno dei report più completi prodotti sull'argomento prodotto dal Laboratorio per i corsi di secondo welfare che affa il punto sullo stato di attuazione di queste pratiche evidenziando dei punti di forza di debolezza e soprattutto ci siamo interrogati un po' sull'individuare alcuni direttrici di miglioramento per l'attuazione di queste procedure altri incontri di approfondimento abbiamo in programma come ad esempio la presentazione del nuovo rapporto sull'amministrazione condivisa di Labsus che è appena uscito abbiamo poi partecipato agli stati generali dell'amministrazione condivisa che si sono dotati a Bologna a marzo con l'obiettivo anche di costruire una relazione un rapporto anche con questo percorso in particolare con l'alleanza per le transazioni giuste che ha organizzato questo gli stati generali dell'amministrazione condivisa per trovare appunto coinvolgibili anche loro all'interno degli spazi del lab infine l'obiettivo di quest'area di lavoro è anche di presentare alcuni casi studio particolarmente riusciti sul tema e da lì partire con un ragionamento per individuare alcune direttrici di miglioramento anche normativo sul tema quello che ancora un po' ci manca all'interno di quest'area è la presenza delle pubbliche amministrazioni perché la maggior parte degli iscritti e delle iscritte provenne dalla società civile e invece le pubbliche amministrazioni sono un soggetto necessario in questi ragionamenti che stiamo facendo dato appunto la loro natura di tratti collaborativi tra pubbliche amministrazioni ed organizzazioni della società civile l'invito e quindi rivolto anche alle pubbliche amministrazioni presenti che si occupano sperimentano questi temi e so che ce ne sono tantissime di iscriversi all'area di lavoro e contribuire con noi a questo piano di diffusione sperimentazioni e analisi di queste pratiche collaborative che stiamo portando avanti all'interno degli spazi del Lab grazie grazie moltissime Marco sei stato molto rapido ma efficace nel far presente a tutti quanti che una delle aree importanti diciamo di sinergia di collaborazione è proprio quella dell'amministrazione condivisa sappiamo che ha una sua storia ci sono dei network c'è un'attività che da tempo ha luogo in moltissimi comuni italiani e noi vogliamo come community del governo aperto creare un link con loro creare un collegamento e mettere insieme come dire le energie e andare insieme nella stessa direzione grazie Marco ora passerei la parola alla presidente di Fondacca Emma Miconi che ci parlerà di un'altra area di lavoro voi sapete che già nel quinto NAP ci siamo cominciati ad occupare di uno strumento importante per i processi partecipativi che è quello del dibattito pubblico non ancora sostanzialmente diffuso come si potrebbe nel nostro paese perché al di là dell'associazione che è stata fatta con alcune specifiche opere pubbliche anche all'interno del PNRR è comunque uno strumento che anche l'esperienza in altri paesi ci rimostra essere molto significativo per coloro che si occupano di governo aperto e per i cittadini che possono presidiare da vicino attraverso questo strumento la qualità dei territori dove vivono prego Emma Miconi non ti vedo in video ma so che ci sei no io ci sono e mi vedo in video spero che perfetto ci sei e ti vediamo bene possiamo usare le poche slide che abbiamo presentato mandato per usare meglio il tempo grazie e quindi sì come Sabina Bellotti ha detto io sono Emma Miconi sono presidente di Fondaca che è un team tank di ricerca Fondaca è la fondazione per la cittadinanza attiva faccio parte anche del forum per il governo aperto di Open Gov e oggi vi presento molto rapidamente i risultati del lavoro che questa comunità parte di questo gruppo di lavoro della comunità di pratiche del Lab sulla partecipazione sta svolgendo già da un po' di tempo e che io coordino insieme a Fabio Riva che rappresenta l'associazione italiana formatori allora quando la comunità di pratica sul dibattito pubblico è nata possiamo passare alla prossima slide in realtà avevamo una normativa nazionale sul dibattito pubblico abbastanza interessante ed aperta sulla base della quale erano stati già realizzati una serie di perchei corsi di processi di dibattito negli anni precedenti diciamo la normativa italiana non era estesa ed ampia come quella a cui si è ispirata che è quella francese dove il dibattito pubblico esiste dal 1995 nell'ambito delle grandi opere ma comunque lasciava una serie di margini di possibilità purtroppo abbiamo dovuto registrare che l'attuale governo invece nella nuova normativa sugli appalti ha drasticamente semplificato la procedura dal punto di vista obbligatoria e dal punto di vista della procedura obbligatoria e quindi noi ci troviamo adesso a lavorare su un strumento normativo che effettivamente riduce fortemente l'interazione virtuosa che può esistere tra chi propone un'opera e quindi una pubblica amministrazione classicamente e il territorio che dovrebbe accoglierla territorio che naturalmente è fatto di gruppi e anche di singoli cittadini che sono molto spesso portatori di interessi legittimi anzi che molto spesso rappresentano anche un interesse generale più esteso il cui parere dovrebbe essere assolutamente ascoltato e che specialmente dovrebbero essere messi in condizioni di valutare anche la tempistica l'opera in sé e anche gli effetti e gli impatti che questa può avere sul territorio quindi in questo contesto anche di mutate condizioni normative noi ci siamo comunque dati il compito sia di analizzare i processi di dibattito pubblico che sono in atto sia specialmente di diffondere informazione e cultura nell'ambito appunto della relazione che ci sta veramente a cuore tra le opere le grandi opere e i territori in cui queste si compiono e per questo motivo appunto esiste un gruppo di lavoro abbiamo analizzato e discusso sulla nuova normativa ci siamo domandati che cosa stava accadendo e in questo contesto abbiamo anche prodotto un set di pillole che sono informative e formative e che sono disponibili nel lab della partecipazione che anzi veramente vi invitiamo ad andare a vedere e che sono divise in alcune fasi che posso descrivere rapidamente le pillole sono fatte di cinque step inquadrano lo strumento del dibattito pubblico nell'ambito più largo degli strumenti della democrazia partecipativa che peraltro come stiamo vedendo vedendo stamattina in Italia ha molte luci e anche qualche ombra sulla quale appunto vale la pena di intervenire le pillole infine inoltre descrivono più precisamente qual è lo strumento del dibattito pubblico se per favore possiamo modificare grazie cambiare la slide quindi dicevo il secondo step è quello di illustrare il dispositivo generale del dibattito pubblico raccontiamo nel dettaglio come si è evoluto questo percorso citiamo alcuni casi significativi tra cui il dibattito pubblico nella regione toscana e pensiamo che comunque affrontare i temi contenuti in queste pillole possa dare indicazioni anche per la realizzazione di percorsi di dibattito pubblico che non necessariamente siano normati dalla legge ma che possono essere anche realizzati su base volontaria che cosa ci proponiamo adesso di fare censire i dibattiti che sono attualmente in corso contattare tutte le realtà le amministrazioni nazionali e locali che potenzialmente possono essere interessate e coinvolte nell'utilizzo di questo percorso e quindi per questo motivo la nostra piccola community che è densa però insomma se si allarga naturalmente è meglio lancia un appello a tutti quelli che hanno già mandato un interesse insomma che si sono già dimostrati interessati a seguire questo lavoro ma speriamo anche a molti altri e perché no anche a qualcuno che sta partecipando stamattina a questo seminario a farsi vivo perché il nostro lavoro sta procedendo e se riusciamo ad aggregare sia altre realtà del mondo civico diciamo del terzo settore che anche altre amministrazioni che sono interessate pensiamo di poter continuare e di ottenere anche dei risultati significativi grazie 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 moltissimo Emma sei stata molto chiara nel ricordare a tutti l'importanza di questo strumento del dibattito pubblico e l'interesse che la nostra community nonostante le vicende legislative e comunque insomma anche nella direzione di un futuro possibile miglioramento applicativo di questo strumento continua e vuole continuare ad avere perché riteniamo irrinunciabile che i cittadini vengano coinvolti proprio in politiche pubbliche di questo tipo insomma abbiamo parlato finora dell'importanza del coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini lo ha detto anche il ministro nella definizione politica pubblica rafforzamento della democrazia di certo non possiamo non coinvolgere i cittadini in politiche di questo tipo che hanno un impatto così significativo nella qualità delle loro vite e degli ambienti dove vivono e sempre per parlare di ambiente e di strategie per lo sviluppo sostenibile adesso darò la parola invece all'architetto Mara Cossu che è coordinatrice di queste politiche nell'ambito del MASE quindi del ministero che ha la responsabilità complessiva di occuparsi di tutte le politiche ambientali Mara prego a te la parola perché abbiamo anche un lavoro su quest'area nell'ambito dell'AMB sì buongiorno a tutti buongiorno Sabina grazie molte per questa possibilità di confronto che per noi è sempre molto importante io provo a condividere molto velocemente un paio di schemi sono veramente degli schemi che spero voi vediate lo diceva la dottoressa Bellotti noi diciamo io mi occupo del coordinamento all'interno del ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica del processo di attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile in pillole si tratta dello strumento di coordinamento dell'attuazione dell'agenda 2030 in Italia e si porta dietro un sistema di attori di strumenti e soprattutto dal punto di vista territoriale abbastanza articolato abbiamo per norma necessità di dotarci di strategie regionali in coerenza con la nazionale 18 sono le regioni e province autonome che in questo momento se ne sono dotati 9 sono le agende metropolitane per strutturare dei quadri programmatici che orientino le politiche pubbliche alla sostenibilità questo cappello rapidissimo soltanto per dire che per noi la possibilità di lavoro all'interno del lab è sostanziale per poter agganciare e amplificare la portata del lavoro che facciamo di presidio e facilitazione continua dei processi per lo sviluppo sostenibile e quindi il lab sta all'interno di un sistema più ampio di strumenti e di interazioni che in qualche modo nell'ambito del processo di attuazione della strategia si è configurato nel tempo in particolare è strettamente collegato con tutta la parte di facilitazione del coinvolgimento continuo degli attori non statali quindi società civile imprese e in parte attori istituzionali scusatemi che dal 2019 si configura per noi nell'ambito del forum nazionale per lo sviluppo sostenibile che oggi conta più o meno 215 organizzazioni l'hab è dunque una parte sostanziale che ci aiuta a dare stiamo per partire con l'area dedicata ai processi per lo sviluppo sostenibile con una logica incrementale di supporto e interazione continua rispetto ai processi in atto nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale mi soffermo su due anzi su tre perdonatemi elementi in particolare il primo ci interessa moltissimo poter utilizzare l'hab e quindi convogliare all'interno dell'hab tutta una serie di ragionamenti che si sviluppano nell'ambito dell'interazione con il forum per lo sviluppo sostenibile e con tutti gli attori territoriali in merito alla mappatura dei soggetti che lavorano per lo sviluppo sostenibile quindi delle esperienze rilevanti e soprattutto degli strumenti che ci consentano di invertire la narrazione verso la sostenibilità questo è uno degli elementi che dal forum è emerso come uno degli elementi di rimenti questo vuol dire dare visibilità al lavoro dei forum territoriali che nel frattempo si sono configurati stamattina sentivamo Puglia Liguria Emilia Romagna molte altre regioni si sono impegnate sui forum territoriali non ancora su iniziative dedicate specificatamente al governo aperto quindi sempre di più l'intenzione è quella di far convergere queste esperienze e di massimizzare le sinergie e le interazioni fra i diversi attori che popolano in molti casi comuni che popolano questi due questi due domini il secondo elemento di interesse per noi è lavorare anche nell'integrazione con le azioni che saranno rivolte al forum per lo sviluppo sostenibile sia in termini di coprogettazione di call for action che in termini di rapporti volontari che presenteremo insieme alle Nazioni Unite quindi anche qui l'Hub è per noi un contenitore di scambio e di massimizzazione dell'interazione verso l'esterno assolutamente fondamentale l'ultimo elemento è quello territoriale riprendendo appunto il ragionamento che si faceva prima la possibilità di poter ragionare all'interno del Lab come momento di confronto e di convergenza fra il lavoro degli attori territoriali coinvolti nei processi di coinvolgimento nelle strategie per lo sviluppo sostenibile a livello regionale provinciale e metropolitano insieme al forum nazionale nel Lab costituisce per noi un elemento strutturante e un ampliamento della capacità di raggiungimento dei cittadini e di ampliamento del coinvolgimento dei cittadini in questi processi che sono complessi ma anche diciamo con una visione di medio e lungo periodo che ha in qualche modo incrementalmente sempre più bisogno di convogliare energie da diversi punti di vista quindi ancora grazie da parte nostra per questa possibilità di collaborazione e ci apprestiamo a lanciare appunto e a riempire di contenuti anche l'area dedicata ai processi per lo sviluppo sostenibile grazie molte Mara grazie molte sicuramente il tema della sostenibilità e il grande lavoro che nell'ambito del Mase proprio per attuare l'agenda 2030 è da tempo in corso ci ha consegnato all'inizio del nostro percorso di creazione del Lab della partecipazione un'esperienza concreta di attivazione dei territori attraverso la società civile attraverso gli enti l'esistenza di questi forum territoriali della sostenibilità sono la dimostrazione di come il Mase ha attuato politiche di fatto politiche di governo aperto incrociando l'esistenza di queste realtà sappiamo nel nostro paese il tema della sostenibilità è percepito come sensibile per varie ragioni che legano anche tutto il tema del cambiamento climatico e non solo alle criticità che dobbiamo affrontare che anche il nostro PNVR sta cercando di affrontare il Mase è con noi fin dall'inizio di questo percorso è fra i promotori del Lab ed è entrato nel secondo mandato del forum ma anche nel forum quindi è molto importante per noi la presenza di questa amministrazione di questo ministero e collaboreremo senz'altro e Mara mi aggiungo alla chiamata che tu hai fatto di prestare di far sì che coloro che ci ascoltano ci aiutino a creare ancora più sinergie rispetto a quello che avviene nei territori e quello che l'Hub si propone di fare abbiamo detto delle linee guida nazionali sulla partecipazione quindi vedete quante politiche di fatto possono contribuire a portare a valore l'esperienza che è stata realizzata e per dare forza anche a coloro che finora non hanno fatto nulla e per dare impulso a coloro che hanno fatto poco perché appunto la macchia di leopardo questa capacità del paese di produrre partecipazione meccanismi partecipativi è giusta e tutti devono contribuire in modo che non si lasci fuori nessuno degli ambiti dove la partecipazione è già uno strumento importante e su questo passo la parola al tavolo nazionale dei contratti di fiume non so se interviene prima Massimo Bastiani prego l'architetto Bastiani perché passiamo a un altro tema molto importante per i nostri cittadini che è proprio quello dei contratti di fiume prego un'altra area dedicata e nuova che stiamo facendo partire prego grazie ci tenevo ad esserci dire due parole abbastanza brevemente poi passerò per gli aspetti anche più operativi di come ci stiamo ponendo rispetto all'app della partecipazione alla professoressa Serre ripeto ci tenevo perché il tema dell'acqua è forse uno dei temi prioritari sui quali la partecipazione si può sviluppare anche perché qualsiasi decisione in merito all'acqua necessita appunto di avere più soggetti che devono tra loro trovare degli accordi cioè comporta quanto meno la necessità di mettere insieme molti punti di vista sull'acqua poi possono nascere conflitti se questo non si fa per cui è assolutamente un tema che riteniamo prioritario per noi è un'esperienza abbastanza nuova perché siamo molto territorializzati cioè nel senso che per esempio abbiamo ultimamente deliberato il nostro documento di posizione proposta come tavolo nazionale nel quale sono contenuti un po' quelli che sono gli indirizzi che intendiamo portare avanti appunto assieme ai contratti di fiume e lo abbiamo fatto attraverso 18 assemblee territoriali cioè siamo stati in 18 territori per cui è anche una sperimentazione quella che facciamo dentro una sperimentazione appunto quella di provare a dematerializzare un pochino i processi decisionali anche all'interno del tavolo il tavolo come funziona il tavolo nazionale di contratti di fiume è una comunità di pratica di apprendimento o meglio è una comunità di comunità cioè racchiude a una scala nazionale quelle che sono le esperienze che vengono fatte nei diversi territori e gli dà voce unica e armonizzata cioè attraverso il tavolo nazionale dei contratti di fiume i contratti di fiume propongono soluzioni misure e miglioramenti anche delle politiche pubbliche e li fanno arrivare appunto alle sedi regionali o al governo questo per esempio è il leader che viene seguito sul documento di posizione e proposta di cui parlavo prima ecco è importante capire che il lavoro che sta facendo il tavolo in generale i contratti di fiume non è quello di inventare percorsi particolari ma appunto come diceva Maragosu chiamare all'azione su temi specifici e poi dall'altra parte aiutare a attuare le politiche pubbliche ecco i contratti di fiume contribuiscono al miglionamento e all'attuazione delle politiche pubbliche principalmente quindi abbiamo bisogno di cercare sempre nuovi strumenti l'occasione che ci è stata data per noi è particolarmente interessante proprio per questo cioè perché ci dà la possibilità di confrontarci anche con strumenti nuovi poi adesso grazie architetto grazie architetto dell'invito grazie a voi grazie a voi passo la parola alla professoressa serrelli dell'università di sassari che lavora appunto alla a supporto di questo tavola nazionale dei contratti di fiume e che si occupa di animare la nostra area di lavoro la vostra area di lavoro prego professoressa buongiorno grazie dottoressa bellotti e ringrazio anche il gruppo di lavoro del dipartimento della funzione pubblica in particolare il dottor Silva che ci ha supportato in ogni momento quindi noi siamo un'area di lavoro che fa capo all'università di sassari ma chiaramente io come membro del tavolo nazionale faccio riferimento proprio alla comunità di pratiche di cui vi ha parlato l'architetto bastiani questa diciamo questa area di lavoro si inserisce appunto in una nostra esigenza che è quella di avere proprio uno spazio virtuale e quindi in qualche modo per noi è proprio la nostra realtà aumentata che ci consente di mettere assieme le nostre energie come vi ha già detto l'architetto bastiani con le assemblee nazionali le assemblee regionali siamo veramente tanti lo abbiamo visto a Napoli proprio in occasione dell'ultima dell'ultimo tavolo nazionale quindi per noi ancora diciamo siamo in fase di elaborazione finale della struttura in cui vogliamo dare molto spazio alle pratiche ma anche alla ricerca sappiamo già che appunto anche il ministero lavora ad una piattaforma ma come dire per noi questa partecipazione è proprio come dire è lo spazio che va avanti oltre la pratica e quindi la ricerca scientifica ed è non è un caso che io come Università di Sassari abbia aderito subito alla richiesta del tavolo di strutturare e quindi anche di coordinare in qualche modo il lavoro delle università piuttosto che di alcuni dei colleghi che hanno già istituito nel tavolo le campagne che sono appunto molto strategiche per noi per parlare di acqua per parlare di fiumi di coste di laghi che stanno dietro appunto questa programmazione negoziata che fa riferimento ai contratti di fiume e in particolare appunto i contratti di fiume dei bambini e delle bambine che grazie alla dottoressa Venari ha portato avanti in particolare nella regione Lazio un programma d'azione che come dire crea una contaminazione anche su altri progetti altri contratti di fiume di altre regioni le donne dell'acqua a cui diamo particolare importanza grazie all'avvocato Rizzuto della regione Calabria che sta divulgando come dire un passaggio strategico che noi riteniamo strategico anche nella ricerca scientifica e cioè l'idea che l'acqua sia vista proprio in queste sue transizioni dall'essere risorsa essere bene pubblico bene comune ma anche alla possibilità che sia vista come dicono gli antropologi come soggetto e quindi per noi è molto importante questa sezione della ricerca in cui pubblicazioni convegni piuttosto che appunto altre iniziative che il tavolo porta avanti possano essere divulgate grazie al lab quindi come dire ci siamo incontrati nel momento giusto perché abbiamo strutturato quindi grazie anche alla sua presenza al tavolo nazionale abbiamo strutturato appunto una sezione vi invito ora a vedere la piattaforma solo nella sua struttura ma proprio con la campagna delle donne dell'acqua ci attiveremo maggiormente perché come dire siamo abbastanza consapevoli che tutto quello che abbiamo già inserito possa avere un'implementazione veloce c'è un'altra campagna che noi riteniamo importantissima che è quella per la custodia dell'ambiente il collega Puma ci sta lavorando tanto e quindi chiaramente daremo spazio ad ognuno di questi referenti della sezione di riferimento e poi il premio delle tesi di laurea che abbiamo già avviato e che quindi insomma ci consentirà di raccogliere questi materiali quindi uno strumento potentissimo per noi per cui pensiamo chiaramente ci vuole tanto lavoro abbiamo dedicato questi primi mesi alla strutturazione in modo che come dire non vogliamo replicare anche alcune alcuni strumenti istituzionali però è anche vero che questo spazio invece che ci offre appunto l'AB ci consente di ripeto andare oltre le pratiche andare oltre il lavoro delle regioni e quindi mettere assieme anche diverse iniziative e vi ringrazio anche di questa iniziativa perché abbiamo visto già con gli interventi che ci hanno preceduto che ci sono interessantissime partnership che proprio con i contratti di fiume potremmo stimolare penso al consiglio nazionale dei giovani penso anche al periodo team tank penso alle imprese sociali con i bambini mi sembra che riuscite a metterci tutti assieme quindi per questo continueremo con molta energia grazie grazie a lei professoressa sì è proprio questo l'intento l'intento è far convergere delle politiche importanti non è un caso che lei ha riparlato di bambini ha riparlato di donne abbiamo aperto parlando di partecipazione proprio su queste importanti inclusioni in una strategia nazionale per il governo aperto perché questo è quello che ci ha consentito di aprire una delle nostre sfide che è quella di non limitarci più a un piano nazionale per il governo aperto ma arrivare a una vera propria strategia nazionale questo è il percorso abbiamo messo in campo degli attori che servono proprio a questo e degli spazi come ha sottolineato lei che servono a questo abbiamo la community abbiamo il forum per il governo aperto abbiamo l'app della partecipazione questi sono i pilastri sui quali ci stiamo muovendo e su questo voglio dare la parola all'IP2 alla presidente di IP2 Serenella Paci perché ci racconti quello che nell'ambito di una delle sfide della nostra community che magari dettaglierò un pochino meglio dopo Serenella è quello che stiamo facendo proprio con il coordinamento di quest'area di lavoro della qualità della partecipazione partendo da una riflessione culturale anche sul tema della partecipazione prego Serenella non ti sentiamo cara non ti senti grazie Sabina è successo che ho mandato le slide per far prima noi arriviamo ultime vogliamo recuperare il tempo e invece non riuscivo più a riaprire il microfono ma adesso torno subito da da voi siamo molto contenti innanzitutto di essere arrivati a questo momento in cui come area un momento solo come area della qualità della partecipazione pubblica presentiamo un po' il lavoro che stiamo portando avanti tutti insieme come comunità ormai da quasi un anno quindi il nostro intervento poi interviene Sabina Bellotti e innovare i principi e definire regole per promuovere la partecipazione come AIP2 noi siamo un'organizzazione della società civile nata ormai un tredici anni fa a Firenze siamo un partner il nostro obiettivo è proprio diffondere la cultura della partecipazione nelle politiche pubbliche lo facciamo con ampie partnership con istituzioni e con altre organizzazioni della società civile dal 2016 siamo tra i partner attivi di OGP e tra i promotori del Lab della partecipazione ma nel 2014 insieme ad alcune altre organizzazioni abbiamo elaborato attraverso un processo partecipativo nazionale la prima carta della partecipazione dieci principi per una partecipazione di qualità in questi dieci anni ovviamente la carta che molti di voi conosceranno che è stata piacevolmente illustrata da Chiara Pignaris e a cui hanno aderito molte amministrazioni a livello nazionale come dire nella nostra riflessione di un ampio parternariato è stata un elemento che ha innovato che ha spinto la partecipazione di qualità ma in qualche modo la riflessione ci ha portato a dire che avesse bisogno di un importante rinnovamento ma che l'abbiamo voluto usare come un momento per riflettere insieme tutti insieme sui dieci principi quindi abbiamo attivato vedete come abbiamo provato a vedere proprio la carta attraverso una grande lente di ingrandimento tutti insieme abbiamo attivato un ampio processo partecipativo la scorsa estate di riflessione e aggiornamento dei principi l'abbiamo fatto con un ampio parternariato formato da altre organizzazioni della società civile come noi quindi INU IAF cittadinanza attiva action aid e con istituzioni partner il dipartimento della funzione pubblica con la partnership di OGP e le regioni Emilia Romagna Toscana e Puglia che sono regioni che promuovono e attuano una legge per la partecipazione con cui AIP2 ha un accordo a livello nazionale proprio per fare rete e per portare avanti pratiche partecipative di qualità e riflessione soprattutto su questo tante cose oggi sono state dette perché dopo dieci anni abbiamo sentito il bisogno di riapprofondire di fare questo lavoro di revisione in questi anni ci sono state tante esperienze di successo in Italia di politiche pubbliche partecipative in ambiti molto differenti di policy ancora c'è molto da farle conoscere da diffonderle questo sicuramente in questo sicuramente l'Hub può dare un grande contributo c'è la spinta data dal percorso che è stato presentato da Maracosu anche dell'agenda 2030 e ONU con tutte le strategie nazionali e regionali che hanno territorializzato i principi io cerco sempre di sottolineare il goal 17 che ci dice proprio partnership per gli obiettivi se vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi di sostenibilità nei diversi ambiti di policy lo possiamo fare solo se lavoriamo insieme tutti gli attori istituzioni società civile imprese eccetera e poi di pochi mesi fa la nuova raccomandazione della commissione europea Maracosu ha parlato di partecipazione come condizione abilitante per la sostenibilità chi magari come me si è occupato delle prime agende 21 locali negli anni 2000 sa bene che è uno degli ambiti su cui maggiormente si è diffusa la partecipazione una partecipazione strutturata io direi che ormai possiamo dire che questo obiettivo che questa idea è consolidata cioè può nuovere la partecipazione attiva di tutti gli attori locali nell'elaborazione attuazione e valutazione delle politiche pubbliche migliora la qualità e l'efficacia degli interventi rafforza le istituzioni e promuove processi di empowerment delle comunità quindi come dire obiettivi di prodotto piani decisioni progetti migliori ma anche fondamentale il valore aggiunto della partecipazione gli aspetti che non vediamo materialmente ma che sono fondamentali ma siamo convinti che molto si sia fatto che la norma la soft law con indirizzi eccetera vada in quella direzione ma ancora si deve fare molto per diffondere cultura della partecipazione innovando i principi e le regole e su questo ci abbiamo provato tutti insieme adesso iniziamo a vedere i risultati per far sì che si faccia quel passo che ancora forse un po' manca rendere la partecipazione prassi ordinaria nella progettazione e attuazione di politiche pubbliche e farlo con questa grande rete di scambio di confronto e di crescita comune allora questo è il percorso partecipativo che abbiamo fatto non ve lo voglio illustrare tutto ma vi dico solo che abbiamo iniziato in collaborazione con i partner che vi ho detto con un sondaggio un questionario che è stato promosso dal dei diversi partner un percorso partecipativo laboratoriale che ha iniziato a coinvolgere tutti i beneficiari del bando della regione Emilia Romagna per appunto diffondere processi partecipativi nei territori abbiamo proseguito con la giornata della partecipazione a settembre scorso con un grande workshop partecipativo abbiamo avuto dieci soci di AP2 con la collaborazione anche delle altre organizzazioni che sono diventati custodi dei principi della carta e hanno fatto un grande lavoro di approfondimento un momento importantissimo poi con OGP una scheda di sintesi per la partecipazione alla challenge un momento molto importante sono stati tra febbraio e aprile cinque webinar proprio dei workshop di riflessione approfondimento sui principi chiaramente immaginate bene come tutto questo sia stato un grande processo inizialmente di divergenza quindi tanta ricchezza tanti contributi di qualità su come si potesse come dire riformulare anche i principi per renderli più attuali poi abbiamo dovuto un po' convergere quindi prendere tutta la ricchezza e cercare di rispondere di creare dei nuovi principi e di farlo con davvero i contributi di tutti e oggi presentiamo qualche primo risultato principalmente il percorso e degli esempi e poi Sabina vi dice la dottoressa Bellotti vi dice come andiamo avanti questa immagine l'ho voluta condividere nei webinar per ogni principio facevamo più domande anche in interazione digitale oltre a una ricca discussione ma è stato molto piacevole vedere i word cloud le nuvole di parole che si formavano su ogni principio perché vedete colorati e in grande secondo me tutte le parole chiave della partecipazione ecco come dire la prima struttura di quella che è il risultato che è la carta innanzitutto abbiamo voluto chiamarla carta della partecipazione pubblica anche questa è stata una scelta netta dieci anni fa c'erano tante spinte differenziate dai molti mondi della partecipazione e a volte per trovare sintesi si sono cercati compromessi anche nelle parole che hanno reso a volte un po' più confusivo il principio meno chiaro poi anche nelle parole dell'assessore o quelle di Sabina subito dopo la partecipazione un bene di tutti è valore pubblico quindi stiamo parlando di una partecipazione nell'ambito delle politiche pubbliche ma una partecipazione per il bene comune per il bene pubblico che crea valore pubblico perché a creare valore pubblico dobbiamo essere tutti e tutti insieme i dieci principi abbiamo provato a fare un po' questo cambiamento sono strutturati in cinque principi che orientano la qualità e sono inclusione equità cooperazione fiducia ed efficacia questi cinque principi sono tutti presenti anche nella prima carta ma vengono oggi più definiti e appunto integrati altri cinque principi che guidano l'azione e qui invece abbiamo scelto vediamo se poi a settembre presenteremo la stessa struttura di usare dei verbi informare facilitare cocreare rendere conto e valutare facilitare è l'unico principio diciamo nuovo perché l'importanza di una facilitazione di una facilitazione qualificata esperta era presente in tanti principi ma c'è stato chiesto a gran voce che fosse più chiaro e più definito nell'ambito di un principio e ve ne presento due uno dei principi che orientano e uno dei principi che ci guidano e il semaforo che vedete a destra che era una delle domande che facevamo con l'interazione digitale vedete come qui il 93% dei partecipanti al workshop ci ha detto che era assolutamente un principio da aggiornare cos'è diventato oggi e ve lo leggo un processo partecipativo riconosce che le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle politiche pubbliche che il coinvolgimento dei partecipanti nelle diverse fasi dalla programmazione e progettazione all'attuazione e valutazione deve essere attivato su questioni rilevanti essere orientato a attivare un cambiamento concreto e a creare capacitazione e impatti positivi per la comunità abbiamo provato a rendere più chiaro l'idea che la partecipazione deve accompagnare l'intero ciclo del progetto della policy e appunto qual è il fine il fine ultimo al di là che si parli di un un percorso di agenda 2030 di costruzione di sostenibilità o di un contratto di fiume uno è l'ultimo dei dieci principi ed è un principio a cui teniamo molto è il principio che abbiamo chiamato valutare se vedete in basso a destra lo schema qui chiedevamo quale applicazione ad oggi quanto è applicato quanto è facile applicarlo questo principio ha avuto la valutazione più bassa perché effettivamente ancora anche in processi di qualità la valutazione resta sempre un po' ostica un po' complessa e soprattutto ancora non condivisa allora i processi partecipativi devono essere valutati nella qualità del percorso svolto nei risultati prodotti e negli impatti generati con adeguate metodologie metriche e indicatori comuni coinvolgendo i promotori facilitatori partecipanti e gli altri attori interessati nelle diverse fasi ex ante in itiner ex post rendendo pubblici e comprensibili gli esiti in un'ottica di miglioramento continuo questo credo che sia una delle sfide che ci ci unirà tutti nel nel prossimo nel prossimo futuro per sapere come andremo avanti do subito la parola a Sabina quali sono i nostri prossimi passi grazie molte serenella grazie penso che sia stato chiaro anche se nella velocità dell'intervento serenella grazie sei stata molto brava quanto lavoro è stato compiuto in questo anno quante diverse modalità quanto è stato veramente un percorso molto interessante e anche come dire impegnativo impegnativo perché ognuno di noi dal proprio punto di vista ha cercato di ripensare anche a come è corretto approcciare in una logica di condivisione di cocreazione questo tipo di politiche perché è chiaro che partire da un insieme di principi definiti da chi la partecipazione la facilita la conduce comunque dal lato della società civile è cosa diversa che riflettere su questo tipo di policy insieme mettendo insieme diversi punti di vista abbiamo visto quanto questo all'inizio creava forse anche una certa confusione entropia come diceva Serenella usciva di tutto e quindi si allargava si allargava era come una panna che montava e poi abbiamo dovuto trovare e cominciare a fare il percorso inverso riuscire a fare sintesi ma è proprio questo il valore aggiunto vero della partecipazione che crea cultura che crea bene comune voglio chiudere dicendovi che ha fatto riferimento Serenella alla challenge in lingua inglese quella che chiamiamo sfida che la nostra community ha voluto concentrare focalizzare sulla base di un invito generale che l'OGP che la partnership mondiale ha fatto a tutti i paesi membri dicendo vi dovete sfidare per far avanzare e rendere visibili gli impatti delle politiche di governo aperto e hanno indicato dieci terreni diversi fra cui uno dei quali è la partecipazione pubblica e la nostra community in collaborazione con il forum per il governo aperto che aveva fatto tre proposte diverse ha scelto di concentrare invece questa sfida proprio sul terreno del potenziamento della partecipazione pubblica e quindi questo si traduce e queste sono come dire le linee su cui stiamo lavorando nella necessità di potenziare l'app della partecipazione che sempre di più deve diventare un centro multi-stakeholder e una piattaforma nazionale come è stato sottolineato da diversi punti di vista per promuovere il confronto e l'innovazione delle pratiche partecipative abbiamo bisogno di definire e diffondere competenze per la partecipazione sia nel personale pubblico che nella società civile nella consapevolezza che perché la partecipazione pubblica diventi efficace ci vuole la capacità e il capacity building da entrambi i lati sia verso all'interno del settore pubblico che nella società civile organizzata e nei cittadini abbiamo sentito parlare l'assessore della regione Emilia Romagna dell'interesse di cominciare a introdurre dei panel di cittadini questo è un lavoro che sta facendo in maniera molto intensa il livello europeo e che anche noi dovremmo essere capaci di utilizzare come metodologia a livelli nazionali e a livelli regionali e da ultimo l'ha nominato anche il ministro migliorare l'accesso ai processi decisionali pubblici stabilendo anche a livello normativo ci chiede OGP un diritto dei cittadini a contribuire alle decisioni ora noi abbiamo scelto anche sulla base dell'esperienza positiva che abbiamo avuto come Dipartimento Funzione Pubblica insieme al DRI nella produzione e messa a disposizione di strumenti per la consultazione pubblica quindi vogliamo seguire una stessa strada di co-creazione questa volta molto più intensamente allargata di regole a partire dai principi quindi questo primo passaggio di produzione di un draft dei principi è molto importante perché crea una base comune culturale di riflessione per stabilire delle regole quindi non sono regole che nascono prima dei principi ma il contrario dobbiamo avere chiaro quali sono le finalità e con l'obiettivo appunto di arrivare a co-creare a partire dai principi anche le linee guida sulla partecipazione pubblica andiamo avanti vediamo quali sono i prossimi passi quindi noi abbiamo con oggi in qualche modo quasi chiuso un percorso che IP2 vi ha raccontato brevemente di messa a punto di revisione dei principi della carta della partecipazione per quella che diventerà la carta della partecipazione pubblica 20-24 perché tale rimane come manifesto di una community che ha voluto mettere al centro della propria riflessione proprio dei principi a seguire da metà giugno faremo una consultazione voi sapete che noi come community del governo aperto non ci accontentiamo solo di fare dei processi di co-creazione che coinvolgono la nostra community ma andiamo in trasparenza cercando e invocando anche altri punti di vista esterni più lontani da noi siamo un paese abbastanza grande che ha bisogno anche di fare questo per una maggiore trasparenza delle azioni di livello nazionale e quindi ci sarà una consultazione del testo della carta della partecipazione pubblica 20-24 che avrà luogo sul lab della partecipazione e invitiamo tutti a promuoverne la partecipazione stessa e avremo poi diciamo la possibilità di vedere gli esiti di questa consultazione quindi di rimettere come ha detto Serenella mano in qualche modo al testo per arrivare poi a presentarlo in maniera formale ufficiale sostanziale proprio nel prossimo festival della partecipazione di Bologna in mezzo cominceremo a lavorare a un draft una versione draft delle linee guida sulla partecipazione pubblica se saremo abili e riusciremo ad avere anche la stessa capacità di condivisione e di impegno che abbiamo avuto sul fronte dei principi anche sul fronte delle linee guida probabilmente arriveremo a metà di settembre con il festival della partecipazione di Bologna promosso da Action Air Italia in collaborazione con il P2 ma anche insieme alla regione media romana e al DFP avremo in quella sede l'occasione sia per promuovere veramente in maniera estensiva la nuova carta della partecipazione pubblica e anche per cominciare il percorso diciamo di riflessione sulle linee guida perché anche in quel caso ovviamente avremo poi un passaggio di consultazione e come ha ricordato anche il Ministro speriamo che entro la fine dell'anno si possa celebrare anche la diffusione delle linee guida per la partecipazione pubblica prossima slide solo per ricordarvi che ci sono altri appuntamenti importanti in questa settimana alcuni sono stati accennati ma già domani si parlerà di Open Government e diritti delle donne e dei giovani e si parlerà anche dell'uso della piattaforma Decibidim nel pomeriggio per rispondere alle sfide della raccomandazione della Commissione Europea sulla partecipazione dei cittadini questa è un'area di lavoro specifica coordinata da Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Forme a Formespa all'interno della comunità di pratica del Lab che oggi non si è espressa perché domani avrà questo spazio di discussione condivisa poi nei giorni successivi avremo la discussione sulle tecnologie digitali per il governo aperto di nuovo si parlerà di intelligenza artificiale lo abbiamo ricordato ma anche di sovranità di design for law di utilizzo dei dati per una governance inclusiva e nel giorno successivo delle competenze co-creare e sviluppare competenze a supporto della cultura del governo aperto chiuderemo poi con un evento che è in linea come dire logica di collaborazione anche attraverso il nostro territorio nazionale siamo partiti dal festival della partecipazione a settembre scorso nella regione miglia-romagna nella comune di Bologna e continuiamo questo percorso a Bari dove andremo a chiudere con una sessione specifica dedicata alle esperienze per il futuro nell'ambito del Puglia partecipa camp di nuovo discuteremo sui principi e su come arrivare a puntare anche a queste linee guida questo è il percorso dei prossimi appuntamenti io veramente vi ringrazio tutti per l'attenzione siete stati un pubblico molto molto attento che ci ha seguito e questo ci fa lo posso dire veramente serenella insieme ci fa bene sperare sul fatto che siete in molti e siete con noi e noi vogliamo che siate e diventiate ancora di più per portare a casa questo risultato comune grazie dal punto di vista e dalla sponda del Dipartimento della Funzione Pubblica che come facilitatore istituzionale sente l'onere di questo percorso ma è anche e l'ha detto con parole specifiche il vertice politico di Funzione Pubblica siamo convinti che questa sia la strada e che quindi innovare anche su questo fronte si può fare e si può fare con la collaborazione di tutti grazie a serenella voglio ringraziare tutti i relatori di oggi se ancora presenti o anche assenti grazie a molte è stato un percorso molto interessante che veramente credo abbia messo in evidenza quante energie quante possibilità potenzialità abbiamo di procedere in questa direzione grazie serenella non so se vuoi salutare grazie davvero a tutti anche a tutti i partner perché è stato un lavoro estremamente interessante e impegnativo per tutti quindi è davvero bello sentire una community che va in una direzione e tutti i partecipanti e le partecipanti di oggi perché pensiamo di crescere ogni giorno troverete i materiali sulla pagina di Eventi Pia quindi tutte le slide saranno a disposizione per qualsiasi informazione siamo a disposizione sia come partner sia come hub che come community che come forum perché voglio anche sottolineare che c'erano presenti oggi diversi membri del forum per il governo aperto e molti di loro saranno attivi attori attivi nei webinar che seguiranno buona settimana dell'amministrazione aperta a tutti buona oggi week grazie grazie a tutti arrivederci grazie